Farà Tommasi che è diventata mamma e quindi proprio stamattina e quindi faccio già un auguri da parte di tutto il Consiglio Comunale e quindi stasera non sarà presente in Consiglio Comunale. Lo stesso è che il Consigliere di Giusto per motivi suoi non sarà presente in Consiglio Comunale. Prego segretario. Buonasera, anche da parte mia. Procedo con l'appello nominale iniziando dal sindaco Alessandro Del Dotto. Presente. Roccardo Andrea. Presente. Menchiti Jacopo. Presente. Bedonesi Federico. Presente. Alessandro Gloria. Presente. Mangelo Lizio. Presente. Dalle Lupe Graziano. Presente. Rombi Nicola. Presente. Benedetti Angelo. Presente. Gemigliani Patrizia. Presente. Dove me il piedronona. Presente. Giunta Marco. Giunta Marco. Presente. No. Lucani Michela. Buonasera. Martelli Marco. Presente. Famiglia Andrea. Presente. Presente. Bertola Giampaolo. Giacomini Alberto. Presente. Erra Riccardo. Presente. Mancini Marcello. Andreini Mario. Micheli Riccardo. Assente. Matteucci Alberto. Presente. Il da Prato Niccolò. Presente. Accetto il raggiungimento del numero legale essendo presenti 20 consiglieri. Dichiaro aperta la seduta e passo la parola al presidente Familla. Presidente, nel frattempo sono entrata anch'io, non ero presente all'appello, scusatemi. Grazie consigliera Micheli. Grazie consigliera Micheli, consigliera Lugani. Mi chiedeva il consigliere Benedetti Angelo, se è presente. Consigliere Benedetti. Prego, si accende il microfono. Presente. No, dicevo, mi chiedeva, mi dica cosa mi chiedeva. Facciamo un minuto il ricordo di Giovanni Maglieni, ma visto che è stato anche per 15 anni consigliere comunale. Bene. Allora, io chiaramente accolgo la richiesta da parte del consigliere Angelo Benedetti e facciamo un minuto di raccoglimento per la perdita del collega Maglieni Giovanni. Grazie. Nomino come scusatori il consigliere Erra Riccardo, la consigliera Gemignani Patrizia e la consigliera Michela Rugani. Partiamo con le comunicazioni. Allora, il primo che si è prenotato è il consigliere Angelo Benedetti. Prego. Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda all'assessore Marcello Pierucci. Volevo sapere a che punto sono, quando partiranno, diciamo, i lavori di riqualificazione del parco 167 all'Igrio di Camaione. Grazie. Prego, assessore Pierucci. Sì. Allora, i lavori al parco praticamente abbiamo già la ditta che le deve eseguire e sono già arrivati tutti i giochi del parco inclusivo. L'unico problema è che non riusciamo ad avere la gomma colata, praticamente è il materiale che serve di protezione sotto i giochi inclusivi. Noi non volevamo chiaramente lasciare dei cantieri sospesi durante l'estate, quindi stiamo cercando di capire se arriva nei tempi utili, nei prossimi giorni iniziamo il cantiere. Se invece il rischio è che le prime due settimane d'agosto ci sia il cantiere aperto, però questo materiale non è arrivato, posticiperemo l'inizio del cantiere al 16 agosto. 17. 17. Grazie, assessore Pierucci. Allora, il consigliere Erra e poi dopo devo fare la comunicazione sia come consigliere e poi come presidente del Consiglio vorrei fare un aggiornamento sulla sala del Consiglio Comunale. Consigliere Erra, prego. Sì, io ho due piccole comunicazioni. La prima riguarda Metato, praticamente per la raccolta differenziata del multimateriale, visto che è previsto una volta a settimana al venerdì, mi chiedevano se si potesse fare per il periodo estivo anche il lunedì, perché il sabato ci sono i cambi dei turisti e quindi si accumula parecchio materiale, sta lì una settimana e quindi vorrebbero per lo meno due ritiri di multimateriale, uno il venerdì e uno il lunedì, così mi hanno chiesto. La seconda comunicazione è relativa al centro di raccolta che avevate previsto di fare al magazzino e che avete congelato. Vi chiedo se è sempre congelato, se avete trovato un'altra area dove farlo o se avete pensato di scongelarlo e farlo lì. Insomma, volevo capire che idea ha l'amministrazione su quel luogo. Grazie. Allora, non so se rispondere il sindaco a queste comunicazioni. L'assessore non c'è e se il Presidente mi dà la parola rispondo alle più ricercazioni. Allora, io sulla questione del passaggio in più riferirò immediatamente all'assessore, anche se devo dire che dubito che questo sia possibile con ormai i piani di servizio predisposti per l'estate. Cioè, se eravamo in primavera ci potevamo anche ragionare, però onestamente questo problema, per esempio su altre frazioni che hanno la stessa dinamica di vita, non c'è posto e francamente dico lo porrò alla stessa ora, ma ecco, non posso garantire che in questa fase riusciamo a dare una risposta che arriva in tempo per l'estate. Sulla seconda questione che poneva del centro d'accolta, confermo che il progetto è ancora congelato, confermo che ci sono valutazioni in corso su un'area alternativa, però sono valutazioni tecniche ancora in corso che rendono prematura qualsiasi ulteriore individuazione e in più c'è un ragionamento che riguarda anche gli investimenti che deve fare Rete Ambiente in questo caso, per cui siamo ancora in una fase di fattibilità di un'alternativa però, quindi il progetto rimane ancora congelato. Grazie sindaco, allora chiedo la parola. Io prima faccio la comunicazione come consigliere, faccio le mie comunicazioni e una è rivolta all'assessore, tutti e tre all'assessore Pierucci. Allora, uno riguarda il problema di Nocchi, alla zona di Alpiano, in quanto appunto alcuni abitanti della zona mi dicono che un'attività che lì nella zona che di fatto permetteva agli abitanti della zona di poter parcheggiare nel proprio parcheggio avrebbe messo un cartello che impedisce a loro di parcheggiare, quindi se quelle soluzioni che sono magari previste nel piano operativo possono essere prima possibile prese. Un altro problema riguarda Via Terapezina, in Via Terapezia all'incorcio con Via San Francesco c'è anche lì l'idea nel piano operativo di realizzare un mini parcheggio, ecco vorrei capire se anche lì lo possiamo fare velocemente. L'altro punto riguarda appunto il campo sportivo Albenelli, dove praticamente il primo lotto, del punto ristoro è praticamente arrivato fino alla costruzione della parte priva di pavimenti e di allacci, quindi è chiaramente che è un'opera a metà e quindi deve essere quanto prima conclusa e quanto prima trovato i soldi perché non è che un'opera può stare ferma 4-5 mesi e lasciare un cantiere a metà. Assessore. Per quanto riguarda la zona di Nocchi, si parla di un'area privata, quindi dove c'è un'attività che fino a poco tempo fa ha concesso parte dello spazio a parcheggio, adesso in effetti sono segnalata anche a me la presenza di questi cartelli. Io e l'assessore Leo Simone ci siamo già attivati per incontrare i proprietari di questa attività commerciale per cercare di individuare una soluzione. Andrini Mario presente, non sentivo nulla, scusate prima, è già un po' che sono collegato ma non sentivo nulla, ora ce l'ho fatta a prendere la linea, scusatemi, presente. Prego, che possa consentire sia la soluzione del problema che la salvaguardia dei diritti privati, chiaramente dei proprietari. Per quanto riguarda via Terra Pezzina, ora non specifico, non lo so dov'è questa previsione. Comunque sarà mia cura appena definito il nuovo piano operativo, con il Consiglio Comunale fare una valutazione di quegli interventi che chiaramente potremmo dare di precedenza rispetto agli altri e sicuramente i parcheggi saranno, dove c'è un'esigenza, i parcheggi saranno sicuramente fra le priorità. Per quanto riguarda il bar Ristoro, che è costato quasi 100.000 euro per la sua realizzazione all'area Benelli, manca dei pavimenti e degli impianti, quindi manca un secondo e ultimo lotto di lavori. Attualmente stiamo facendo in quel campo tutti i lavori di messa in sicurezza, perché quello, come tutti gli altri campi del nostro territorio, non erano a norma, quindi abbiamo dovuto prevedere a metterli a norma. Nell'estate partirà anche la nuova convivanda, la nuova convenzione, dopodiché partiremo anche con i nuovi lavori. Grazie Assessore. Prima di ripassare la parola al Consiglio Lunardelli, darei la parola all'Assessore Pierucci per dare una piccola illustrazione sul discorso della Sala del Consiglio, in quanto la Capigruppo all'unanimità ha deciso di fare un percorso e di una nuova sistemazione alla Sala del Consiglio. Quindi magari se in tre minuti l'Assessore Pierucci dà una piccola sintesi della situazione per capire anche quando di fatto potremo tornare in Sala del Consiglio con la nuova sistemazione. Questo è stato deciso all'unanimità dalla parte della conferenza del Capigruppo, in quanto la Sala del Consiglio è vecchia e quando, come tutti voi sapete, molti microfoni non funzionavano e quindi c'era disagio. L'unica cosa che la Capigruppo ha deciso è di spendere il meno possibile, nel senso di fare una cosa fatta a modo ma spendendo cifre ragionevoli. Prego Assessore. Allora, penso che tramite il Presidente del Consiglio Comunale i Capigruppi siano già in possesso di una rappresentazione di come verrà la Sala Consigliare. Comunque cerco in poche parole di farvi un attimino, di descriverla un attimino. Praticamente la nuova Sala si concretizzerà con due banchi sopraelevati sotto il crocifisso, in fondo alla Sala Consigliare, che ospiteranno nel secondo tavolo gli Assessori. Nel primo tavolo invece il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario. Dopodiché i consiglieri saranno disposti tutti in un tavolo centrale, da ambo i lati del tavolo. Il tavolo sarà chiaramente andrà restringendo nella parte finale per consentire a tutti i consiglieri comunali di vedere il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale. Oltre a quello, praticamente gli appalti sono due. Uno è questo che riguarda, praticamente verrà tolta la mochetta sul pavimento e verrà rilucidato il pavimento sotto e gli arredi della Sala. Il secondo lotto invece riguarderà l'acquisto che sono già arrivati, perché sono già a disposizione, gli acquisti di tutti gli apparati elettronici che serviranno chiaramente per discutere in Consiglio Comunale. Io credo che, no, non credo, sicuramente nell'autunno la nostra Sala Consiliare a settembre e primi di ottobre dovrebbe essere a disposizione. Stiamo dando in questi giorni l'affidamento diretto quindi con degli arredi necessari. Grazie, Assessore. Consigliere Lardelli. Grazie, Presidente, e grazie anche per questo aggiornamento che, insomma, io ero stato uno di quelli che l'aveva chiesto. Allora, intanto io vorrei fare i complimenti a un nostro concittadino che, insomma, è una mente prolifica che è uscito con un nuovo libro, il dottor Pierpaolo Dinelli, con un libro che si chiama Caravaggio dall'ombra al dettaglio. Quindi, insomma, il dottor Dinelli torna a occuparsi di arte che è un po' la sua passione, come tutti sappiamo. Quindi, insomma, è un libro che è uscito in commercio da questo mese, dalla metà all'incirca di questo mese. Quindi, insomma, approfitto per fargli i complimenti. Poi vorrei segnalare una cosa e non la segnalo a titolo personale per quanto sia coinvolto personalmente, però io comunque, ecco, insomma, lo segnalo in... perché ho visto il giornalino e nell'ultimo numero del giornalino, tra l'altro, nello spazio dedicato che la nostra lista lascia per da sempre a disposizione del Comune per informazioni di interesse generale, quindi a beneficio della cittadinanza, si parla della manutitolo, manutenzione partecipata del verde pubblico. E ora, non che mi dispiace non essere stato menzionato, non è che mi dispiace quello, per carità è un dettaglio, però, insomma, bene o male quel regolamento era il frutto di un incarico che avevamo avuto come Dipartimento di Giurisprudenza, quindi, insomma, non siamo stati neanche menzionati, perché mi dispiace, ripeto, non a titolo personale, ma perché quel regolamento lì che non a caso si inserisce in un progetto regionale è addietro tutta una logica, cioè è una forma innovativa di partecipazione, quindi, insomma, si inseriva in una logica ben precisa, quindi, insomma, mi dispiace che questo, diciamo, questa parte, diciamo, così teorica che stava dietro al regolamento non sia stata neanche menzionata, ripeto, mi dispiace, immagino che sia stata una svista, non voglio pensare male, grazie. Tra le altre cose devo dire che io, come cittadina, sono dei mesi che non ricevo giornalismo. Scusami, no, no, hai ragione, hai ragione, hai ragione, Favilla, volevo solo dire. Non serve una risposta, giusto? Giusto. Bene, consigliere Iacomini, sì, grazie presidente, buonasera a tutti. Niente, volevo rallegrarmi con l'assessore Perucci per aver provveduto a installare i bidoni che per otto, nove consigli comunali consecutivi abbiamo richiesto e sono stati finalmente installati. Una raccomandazione, se ha provveduto a dare l'ordine di servizio all'ente caricato per la svuotatura e per la pulitura perché sono già passati due volte non hanno aperto bidoni e portato via la plastica dentro quindi se hanno le chiavi o in alternativa se può consegnarci a noi cioè alle attività le chiavi che provvedono autonomamente a pulirli e a svuotarli. Grazie. Prego, la sessione di Luci. domattina provvederò subito a segnalare la questione a Erzu e capire come mai non hanno ancora provveduto penso sia solo una dimenticazione consigliere da Prato grazie presidente buonasera a tutti volevo fare una domanda in merito all'articolo 27 rubricato commissione di controllo del regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali allora quest'articolo prevede una commissione di controllo questa commissione di controllo è composta da i membri della seconda commissione consigliare da dipendenti dell'ufficio tecnico sezione lavori pubblici e da almeno due rappresentanti indicati dal sindaco ecco la domanda che pongo la domanda che faccio è chi sono questi due rappresentanti sono stati nominati oppure ancora sono sconosciuti scusi consigliere da Prato mi puoi dire come è composta la commissione allora presidente io ho solamente letto l'articolo 27 del regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali questa commissione è composta dai membri della seconda commissione consigliare commissione di cui il sottoscritto fa parte da un dipendente dell'ufficio tecnico sezione lavori pubblici e da almeno almeno due rappresentanti indicati dal sindaco io volevo sapere se questi due rappresentanti sono stati nominati oppure se ancora non sono stati nominati tutto qui sindaco devono ancora essere nominati e abbiamo deciso questo ovviamente compatibilmente con i tempi che ci saranno ma penso anche abbastanza breve che lo faremo in contemporanea alla partenza degli avvisi per l'assegnazione degli impianti sportivi che come sapete hanno tutte le concessioni in proroga perché sono tutte concessioni che erano scadute e che vanno rinnovate in sensi della legge regionale numero 6 del 2005 contestualmente all'avvio procederemo alla nomina dico procederemo che poi chiaramente sentirò un po' anche gli uffici ma procederemo alla nomina dei componenti che mancano che per l'appunto dovevano essere due nel primo mandato erano due persone poi sono scadute alla fine del primo mandato e vanno ancora rinominate però come il lavoro tecnico che poi bisogna fare con questa commissione è quello anche del controllo rispetto alle nuove normative che saranno dentro le nuove concessioni perché nelle nuove concessioni ci sono tutta una serie di adeguamenti e di obblighi che prima non erano previsti o non erano espressamente previsti oggi al chiaro delle nuove regole e al chiaro soprattutto delle nuove concessioni che andranno a bando penso a settimane tra l'altro perché dovrebbe partire una prima tranche di avvisi nomineremo subito i componenti che diceva adesso il consigliere da Prato ragazzi sindaco io non avrei più nessun altro che ha chiesto la parola quindi prima di passare alle interrogazioni fare un piccolo assunto dicendo che probabilmente la sarà consigliere per Antonio Graziani e sarà di nuovo attiva nel periodo tra settembre e ottobre prego darò la parola alla passiamo all'interno la prima interrogazione impianti sportivi di Camaiore presentato dal consigliere da Prato Niccolò grazie presidente allora leggo l'interrogazione allora io ho sottoscritto Niccolò da Prato nata a Piedra Santa al 26.09.97 consigliere comunale della Lega vista l'importanza dello sport e conseguentemente degli impianti dove si svolgono le discipline sportive chiedo quali sono stati gli investimenti possi in essere da questa amministrazione sugli impianti sportivi del comune relativamente al 2019 al 2020 qual è stato il costo degli investimenti di qui sopra relativamente al campo di calcio di via fonda si è provveduto ad adeguare locali per i soggetti diversamente abili a sostituire la porta di accesso ai locali con una porta antincendio a sistemare l'impianto di illuminazione quali sono stati gli investimenti programmati relativi al 2021 qual è il loro importo quante volte si è riunita dal 2017 ad oggi la commissione prevista all'articolo 27 del regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali per verificare l'applicazione di tale regolamento presidente si scusate ma nel frattempo ho ricevuto la comunicazione da parte del consigliere del vicepresidente Marcello Mancini che ha impedito a venire in consiglio e non sa se riuscirà a venire durante questa seduta consigliare e voleva che lo comunicassi prego diamo la parola a consigliere il delegato Boccardo Andrea che darà la risposta grazie presidente in merito alla commissione sono d'accordo ha detto comunque bene il sindaco credo che sia importante convocarla nel momento in cui ci saranno le assegnazioni dei campi sportivi in cui appunto sono in scadenza appunto le famose proroghe della concessione dei campi credo che sia giusto che venga poi appunto diciamo così indetto il famoso giro dei campi in modo che ci possa essere un controllo da parte anche della della commissione sportiva e in aggiunta appunto dei due membri indetti appunto scelti dal sindaco per per controllare che l'operato tecnico sia sia ben eseguito riguardo appunto invece agli investimenti che sono stati effettuati nel BN 2019 2020 si parla della messa in sicurezza e dell'adeguamento degli spazi dei locali per disabili e per appunto i bagni pubblici all'interno dei vari impianti sportivi Camaiore Capezzano Lido siamo in ultimazione della della ristrutturazione del campo Raffaelli e si parla di un investimento di circa 320 mila euro quindi credo che insomma in questi in questi anni gli adeguamenti appunto agli investimenti sugli impianti sportivi messi a punto dall'amministrazione siano stati abbondanti e adeguati c'è da fare ancora dell'altro perché rimane appunto il nodo del campo Torri da sciogliere soprattutto mi riferisco appunto alla parte del campo dell'atletica però credo che da questo punto di vista l'amministrazione abbia in porta appunto ulteriori investimenti come appunto chiedeva il consigliere da Prato per il 2021 2022 poi se l'assessore Pierucci vuole aggiungere qualcosa riguardo alle specifiche dei lavori pubblici eseguiti do la parola a lui grazie ci sono rimasti diciamo ci sono rimasti diciamo che in 10 secondi non c'era la risposta se si è interessata dalla situazione si può fare una posizione se ne parla una sera passiamo alla seconda interrogazione presenza topi in condominio di Camaricola io tratto più che volentieri anche la seconda interrogazione però dovrei rispondere a questa si ha ragione ma io guarda guardi presidente sono allibito perché alla mia interrogazione non è stato risposto allora io chiesto parto dal fondo questa volta quante volte si è riunita al 2017 e oggi la commissione per gli stanno articoli 27 non mi è stato risposto comunque lo dico io non si è mai riunita almeno io da quando sono in consiglio comunale non ho mai partecipato a questa commissione e questa commissione non deve soltanto venire fuori allora quando si tratti di assegnare gli impianti all'associazione questa commissione deve fare deve svolgere un lavoro costante deve vedere che le convenzioni stipulate tra il comune e le varie associazioni che gestiscono gli impianti vengono rispettate da ambo le parti poi per quanto riguarda gli investimenti che sono stati posti in essere da questa amministrazione non mi è stato detto niente mi è stato solamente detto che c'è stato un adeguamento normativo per quanto riguarda alcuni impianti come per esempio Via Fonda e se non ho capito male Benelli e Al Lido investimenti relativi al 2021 non mi è stato detto niente nemmeno in merito all'importo quindi Presidente io sono non sono assolutamente soddisfatto della risposta perché non mi è stato risposto a niente a niente mi è stato solamente detto che sono stati fatti c'è stato fatto qualche adeguamento normativo al campo Via Fonda e al campo Benelli basta grazie ricordo che noi abbiamo due minuti ha ragione Presidente io purtroppo non riesco a vedere non riesco a vedere il tempo di un'intervento quindi se scuro non è un minuto la risposta per le serve sono soddisfatto perché non mi hanno risposto alle domande passiamo la seconda interrogazione sempre fatta il consigliere da Prato Niccolò presenza di topi in condominio di Dio di Camaiore prego grazie Presidente all'assalto la parte relativa alla presentazione vabbè e visto il recente articolo uscito su quotidiani locali dove si segnala la presenza di topi di Fogni al primo piano di un condominio sito di Dio di Camaiore posto che la presenza di topi di Fogni è una frazione dove la salubrità ambientale dovrebbe essere la normalità rappresenta un problema per molti cittadini chiedo quali siano i provvedimenti che intenda prendere l'amministrazione per risolvere un problema che purtroppo riguarda diverse abitazioni di Dio di Camaiore se sia stato predisposto un piano di derattivizzazione e disinfestazione da parte del comune le modalità di attuazione del piano superichiamato grazie risponde il sindaco sì io do lettura della risposta che mi ha affidato l'assessore Pescaglini in riferimento all'interrogazione di cui è un oggetto relativa alla richiesta di informazioni circa i provvedimenti adottati dal comune per risolvere il problema della presenza dei topi di Fogni si comunica che nel piano attuale delle attività comunali PAC del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo all'annualità 2021 di cui la delibera è di giunta 86 2021 e nel PEF del 2021 validato da Ato Toscana Costa con determina 45 del direttore generale del 25 maggio 2021 è previsto il servizio aggiuntivo opzionale di derattizzazione da realizzarsi in ambiti pubblici gli interventi attivati a seguito di segnalazione e conseguenti superluoghi prevedono la collocazione di esche rodenticide confinate in appositi dispenser di cui è consentito l'uso sulla base delle normative vigenti grazie sindaco prego consigliere da Prasa grazie presidente io sono parzialmente soddisfatto della risposta comunque mi metterò in contatto con l'assessore Fesca In visto che è lei che mi ha risposto grazie passiamo alla terza comunicazione lavori di ripristi interrogazioni lavori di ripristi in area in località Montemagno presentata dal consigliere da Riccardo prego sì buonasera come rappresentanti di Fratelli d'Italia di Camaiore visto che sono iniziati i lavori di ripistano dell'area dove era ubicato il famoso leccio secolare in località Montemagno considerato che il progetto di riqualificazione di quell'area non renderà omaggio a quel luogo e tenuto conto che sono state raccolte quasi cento firme contro quel progetto chiedo che vengano proseguiti i lavori di ripristino di quell'area nello stato in cui si trovava e contemporaneamente si inizia a fare un nuovo progetto che preveda un bel vedere degno di quel nome dove veramente le persone possano rilassarsi e godere del bel panorama senza danneggiare le attività economiche che li insistono grazie grazie consigliere R assessore Ferruccia io nel rispondere a questa interrogazione voglio leggere una mail che io ho ricevuto nei giorni scorsi non farò i nomi però la lascio a disposizione il presidente del consiglio se qualcuno può prenderne visione può prendere visione sono il signor mi ha dato il suo indirizzo io sono uno dei firmatari della lista che è stata presentata per il fermo dei lavori della zona ex legge dichiaro che sono stato tratto in inganno perché mi era stato detto a me a mia moglie e altre persone che ciò che si firmava era per non fare il senso unico della strada località Ricetro a rovescio di quella che è stata fatta adesso cioè che la salita sarebbe venuta in zona parcheggio adiacente al ristorante questo foglio questo foglio da firmare è stato portato da me da una mia vicina poi c'è il nome che lavora come cameriera da chiocchè e presumo che lei lo abbia fatto in buona fede perché era solo un foglio bianco con alcune firme prima delle nostre firme senza nessuna dicitura anche lei ci ha rassicurato dicendo che le firme servivano solo per lo scopo di cui sopra e non per fermare i lavori a via Montemagno Riccardo Erra ma adesso anche le firme taroccate io non ho parole i lavori comunque non si fermeranno prego consigliere Erra ripartiamo il contatore tanto caro Pierucci Marcello le firme taroccate non le ho raccolte io e ti invito ad avere un atteggiamento migliore e a considerare il lavoro che fanno i consiglieri a differenza di quello che fai te che non hai fatto nulla per nove anni e cominci a fare qualcosa ora tanto per essere caro e devi essere rispettoso del lavoro che fanno i consiglieri caro Pierucci arrogante che non si è altro non ti ci conoscevo ma ti ci devo dire queste firme qui a me mi sono state consegnate non ho provveduto io a raccogliere io sono andato a segnalare e ti segnalo che quel lavoro del bel vedere deve essere fatto bene perché lì un bel vedere ci sta bene sono d'accordo ma non quello che prevedi te perché quel bel vedere non fatto che portare via strada non è un bel vedere quindi ti prego di assicurarti io non ho taroccato niente caro assessore dei miei dei miei stivali io ho raccolto le firme che hanno raccolto e me le hanno portate consigliare ma sia l'assessore è rivolto sia l'assessore che a lei manteniamo i i toni calmi i toni calmi ma io sono calmo forse anche il mio è il mio modo di ragionare però quando mi vengo io vengo accusato di taroccare le firme questo è passivo ecco ha ragione lui perché non sa risposta non è mai presente si appare solo del consigliere delegato non è presente a me mi sono stati assegnati in un bar a Montemagno queste firme perché io sono andato a vedere i lavori come venivano svolte non mi piace fare un'interrogazione poi decideranno i cittadini ma non è il modo di rispondere di un assessore arrogante e presuntuoso che non sia il tempo è scaduto perché abbiamo un minuto e purtroppo il cronometro se ne segna due speriamo con i nuovi lavori di una sala di consigliere di avere la tecnologia almeno del 2020 e non più del 1990 passiamo alla terza alla quarta comunicazione Presidente 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 scusi un attimo non si può dire niente in merito a questa cosa no mi dispiace pericolosità in crocio fra via Borgovecchio e via Lucchesi via Carignoni Presidente sempre al consigliere della Riccardo Pongo questa interrogazione a nome di Fratelli d'Italia considerate le numerose sollecitazioni ricevute dai cittadini che lamentano lo stato di pericolo presente all'incrocio fra via Borgovecchio via Lucchesi e via Carignoni in quanto non esiste una segnaletica orizzontale e verticale che faccia capire bene chi ha la precedenza e chi non la abbia considerando che quella zona è molto trafficata chiedo che si intervenga quanto prima per rimuovere quella pericolosità ridisegnando tutta la segnaletica orizzontale e installando quella verticale grazie di fatto siamo un po' in ritardo in questo intervento che era programmato in passato poi è rimasto nelle cose da fare sarà nostra premura prima dell'autunno nell'autunno di provvedere a questa segnaletica stiamo facendo una gara d'appalto prima proprio sulla segnaletica orizzontale appena avremo la ditta provvederemo fra le altre cose anche a fare questi lavori grazie assessore consigliere un minuto per la replica sì mi auguro che questi lavori vengano fatti perché effettivamente lì esiste un grosso pericolo perché mi sono trovato anche camminando a piedi anche l'altra settimana due ciclisti che venivano giù da pedona fra un po' investono un'auto che non vedendo lo stop sono passati perché hanno la precedenza di venire da pedona l'area la macchina attraversava fra un po' ci picchiano conto quindi mi auguro che vengano fatti visto che è cinque anni che non vengono fatti ora mi auguro che visto che ci si avvicina alla scadenza elettorale che anche queste opere vengano fatte grazie grazie assessore Pierucci assessore Pierucci scusa no no ha ragione passiamo all'ultima interrogazione pericolosità area della dogana a capezzano piano piano ne prego assessore consigliere a riccardo sì a nome di fratelli d'Italia io ho un problema alzare il consiglio non si capisce non si capisce non si capisce perché rimbomba tutti è questo pensiamo un attimo perché qui è difficilissimo la sala la sala ho capito però in laggiù alle bocchette non c'è questo problema qui esiste un problema che c'è un rimbombo che non si capisce nulla scusi consigliere era prego sì dicevo a nome di fratelli d'Italia di Camaiore considerate le numerose sollecitazioni ricevute dai residenti dai commercianti che si trovano nell'area conosciuta come area della dogana a capezzano piano che lamentano lo stato di degrado e di pericolo presente in quella zona dove transitano migliaia di veicoli al giorno anche a velocità sostenuta in quanto non esiste una segnaletica orizzontale verticale consona e non esiste nessun strumento che possa cercare di far rallentare i veicoli che vi transitano chiedo che si intervenga quanto prima per rimuovere quella pericolosità ridisegnando tutta la segnaletica orizzontale installando quella verticale e costruendo degli attraversamenti pedonali rialzati o installando sulla carreggiata delle bande acustiche nelle vicinanze dell'attraversamento pedonale che possano ridurre la velocità dei veicoli grazie grazie mi vedete no come si vede io lo vedo il presidente ma vedi mezza faccia ma è bene è fissa io mi vedo ah ma è che sei ah è acceso e già c'è bene prego assessore denuncio allora sì l'intervento richiesto dal consigliere Erra è incluso anche negli investimenti che noi stiamo realizzando che è previsti nel nostro piano triennale degli investimenti che è stato approvato anche da questo consiglio comunale e che ormai è giunto praticamente in fase di progettazione definitiva esecutiva quindi entro l'autunno sicuramente partiranno i cantieri e proseguirà tutta la riqualificazione non solo della zona della dogana ma con marciapiedi e la messa in sicurezza completa della strada dal cimitero dove eravamo arrivati con i primi due lotti e arriveremo fino alla zona della dogana che è quella che è stata richiesta al consigliere Erra poco fa e quindi includerà anche quella zona non solo con una segnaletica ma con la messa in sicurezza con la realizzazione di marciapiedi e il miglioramento e la riqualificazione di quella zona grazie assessore Pierucci consigliere Erra sì io capisco quello che viene detto che è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ma quello si tratta di un'altra cosa si tratta della realizzazione del marciapiedi del prolungamento del marciapiede qui l'area va sistemata quanto prima perché è pericolosissima le macchine andateci a vedere se non ci credete io ci sono stato ci ho realizzato anche un video ci passano le auto e sfregiano ad alta velocità la gente non riesce veramente ad attraversare ad attraversare ci sono diverse attività economiche è diventato tipo un piccolo centro commerciale naturale e quell'area va riqualificata la segnalettica fatta subito non aspettare l'autunno che magari possono succederci anche degli incidenti quindi io io inviterei l'amministrazione a prendere veramente in considerazione la riqualificazione o almeno di disegnare la segnalettica orizzontale e installare queste bande acustiche e perlomeno per permettere anche a chi vuole attraversare la strada e di attraversare la insicurezza peraltro lì confuisce anche via delle capanne mi sembra che andate a vedere quando si mette un camioncino un'auto su quella strada la pericolosità di quella strada quindi io lo segnalo mi auguro che vengano fatti gli interventi quanto prima grazie grazie consigliere passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno ciclo di gestione dei rifiuti approvazione piano finanzi no scusate bilancio previsione 2021-2023 variazione numero 4 la pratica è firmata sia dall'assessore Pierucci che dall'assessore Mecchi quindi hanno 10 minuti di tempo vedranno come dividerselo prego assessore Mecchi si comincio io poi lascerò la parola all'assessore Pierucci per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche questa è una variazione un po' più sostanziosa rispetto alle precedenti che abbiamo portato in consiglio comunale di fatto la maggior parte delle entrate andiamo a utilizzare l'avanzo di amministrazione grazie al buon consuntivo che abbiamo avuto in riferimento al 2020 e ai trasferimenti statali possiamo utilizzare l'avanzo altre entrate sono date appunto da trasferimenti soprattutto da trasferimenti che in quest'anno sempre di pandemia lo Stato passa ai comuni andiamo fra l'altro a finanziare operazioni importanti che riguardano i nostri cittadini col fondone andiamo a finanziare le agevolazioni con le quali andremo a come negli anni scorsi fra l'altro ma con importi ben più evidenti vista la crisi ad pare agevolazioni sociali che riguarderanno soprattutto la Tari per 275 mila euro lo stesso agevolazioni scuola per 180 mila euro agevolazioni in conto affitti per 90 mila euro e agevolazioni ai nostri concessionari più coloro che non sono inseriti nei rimborsi per quanto riguarda la COSAP statali facciamo fronte anche a quelli stamattina in giunta abbiamo abbiamo approvato la pratica che estende anche a quei locali che non sono pubbliche esercizi l'estinzione della cosa più lo stesso anche ai banchi dei mercati che non fanno parte dei mercati fissi sicuramente poi andrà integrato perché il gettito cioè la mancanza di gettito è superiore allo stanziamento comunque abbiamo già iniziato anche su questo fronte più altri piccoli trasferimenti importante poi che riguarda all'avanzo di amministrazione nostro l'avanzo destinato andiamo a finanziare per 350 mila euro delle opere pubbliche per quanto riguarda le uscite oltre a quelle che ho già detto andiamo ad effettuare dico soltanto le maggiori che poi potete trovare nella pratica sanificazione pulizia uffici per 60 mila euro altri investimenti sul CED che quest'anno è molto diciamo molto richiesto perché praticamente ci si impone di allinearci a determinati strumenti informatici e quindi stiamo proseguendo anche su questa strada e lo faremo penso anche di più nei prossimi nei prossimi mesi per adeguare anche il nostro il nostro comune a degli investimenti sul digitale dei quali non eravamo molto presenti poi sui servizi scolastici in attesa che parta la nuova gara andiamo a finanziarla totalmente poi magari se ci saranno qualche sconto le riprenderemo di fatto però tra tutti per effettuare le gare andiamo ad integrare i finanziamenti per altri 170.500 euro poi i contributi in pianti sportivi ne parlavate prima per quanto riguarda un'interrogazione anche qui partiranno alcune gare quindi per adeguarci all'importo delle gare abbiamo reintegrato con circa 36.000 euro questi capitoli poi ci saranno incariche professionali per l'edilizia privata per 40.000 euro ambiente per 43.000 euro in più un altro importante che sicuramente andrà a finanziare l'illuminazione di Natale anche quest'anno come come investimento diciamo per rilancio dell'economia locale ce ne faremo carico visto visto quello vista la pandemia ancora in atto dovranno partire le gare quindi anche per quello stanzieremo circa 130.000 euro per quanto riguarda tutto il territorio lascio poi la parola all'assessore Pierucci per quanto riguarda le spese di investimento dico soltanto che dal punto di vista finanziario non ci sarà per il momento nuovo indebitamento rimaniamo sulle cifre già presenti nel piano andiamo appunto a destinare ad investimenti parte dell'avanzo destinato che ricordo era già finalizzato ad investimenti nel settore del lavoro pubblico e non a spesa corrente per 350.000 euro più aumentiamo le monetizzazioni in quanto abbiamo già raggiunto il precedente obiettivo di 500.000 euro e contiamo che entro l'anno anche questo possa essere integrato e lo portiamo circa a 850.000 euro queste diciamo sono sono le cifre più importanti di questa variazione che ripeto si si rende possibile grazie al buon consuntivo che abbiamo approvato relativamente all'anno 2020 vi lascio quindi la parola all'assessore Marcello Pierucci per illustrare le modifiche sostanziali che sono state fatte al piano pluriennale dei lavori pubblici grazie consigliere l'assessore Mecchi do la parola all'assessore Pierucci come diceva in precedenza l'assessore Mecchi praticamente gran parte di questa variazione anche negli investimenti è determinata dall'avanzo di amministrazione avanza amministrazione chiaramente vincolato cioè quella parte di avanza di amministrazione che per sua natura per l'origine che hanno avuto le entrate può essere destinato esclusivamente a investimenti quindi abbiamo avuto circa 300 no 350 mila euro di avanza di amministrazione vincolato e le altre risorse che abbiamo chiaramente siamo riusciti ad allocare sono determinate da un la sospensione al momento quindi portando l'intervento nel 2022 dell'ampliamento del parcheggio a Camaiore parcheggio da quello che chiamiamo da SEM del Viale Oberdan che arriva fino a Via Fondi questo chiaramente l'abbiamo spostato per una questione urbanistica perché chiaramente non potevamo procedere con le progettazioni fino a che non sarà approvato il nuovo piano operativo quindi siamo solo perché siamo in attesa non perché non vogliamo eseguire l'opera anzi l'opera ci sta particolarmente a cuore però al momento non volevamo lasciare sospese delle risorse che fino a che il piano operativo non sarà chiaramente efficace chiaramente non potevamo utilizzare dove andiamo ad allocare queste risorse in parte in asfaltature perché abbiamo necessità su alcune strade di chiaramente di essere ripristinate e lì ci va una cifra piuttosto importante di circa 400 mila euro e l'altra invece andrà una parte sulla frana in località Fibiano perché praticamente non so se vi ricordate nell'ultima variazione di bilancio avevamo stanziato solo 100 mila euro con l'idea di eseguire il lavoro in due lotti un primo lotto di pulizia della strada e quindi creando un senso unico alternato poi un secondo lotto che invece metteva in sicurezza la collina beh abbiamo andando avanti con la progettazione siamo resi conto che l'opera fatta in due lotti costava molto di più per queste ragioni abbiamo fatto un sacrificio trovate subito le risorse necessarie e abbiamo finanziato completamente l'opera per 180 mila euro un'altra cosa che noi che andiamo a finanziare con questo intervento è l'emergenza abitativa proprio stamattina abbiamo approvato in consiglio in giunta una delibera di indirizzo da parte dell'ufficio sociale che chiaramente mette in risalto la necessità del comune di Camaioli di avere anche una propria autonomia rispetto all'emergenza abitativa quindi rispetto chiaramente alle collaborazioni che abbiamo con ERP e con altre strutture a noi vicine quindi per questa ragione abbiamo accantonato abbiamo allocato delle risorse per poter far fronte ad acquistare almeno due unità immobiliari da poter destinare all'emergenza abitativa e da poter utilizzare in maniera autonoma da parte dell'ufficio sociale dopodiché una parte di risorse invece le destiniamo al presunto acquisto insomma cercheremo di capire poi se riuscivamo a perfezionarlo di un piccolo immobile che è in via Radicchi che demolendolo si riuscirebbe a ottenere un importantissimo allargamento di quella strada che oggi praticamente lì c'è una strozzatura che mette in difficoltà i furgoni qualsiasi molti mezzi ci sono rimasti addirittura incastrati quindi praticamente questo costo è abbastanza limitato non dovrebbe andare dovrebbe essere inferiore ai 40.000 euro verrebbe acquistato per poi demolirlo e consentire l'allargamento della strada poi c'è una piccola somma per acquistare l'impianto mobile che noi abbiamo a Camaiore che fino ad oggi era elettrico che avevamo a noleggio invece adesso lo acquisteremo lo faremo nostro perché è abbastanza conveniente questa operazione poi rimanga a disposizione per un ulteriore grazie assessore Perucci passiamo la apriamo la discussione ci sono qualche consigliere che chiede la parola consigliere R sì consigliere R sì sì scusa allora partiamo da un'analisi questa è una variazione di bilancio importante perché è una variazione di bilancio di circa 2 milioni di euro è una variazione di bilancio finanziata come veniva detto prima misura maggiore d'avanzo di amministrazione per circa 1 milione e 300 mila euro ci sono circa 250 mila euro di trasferimenti statali ho visto 110 mila euro per quanto riguarda rimborso di prestiti di personale e 350 mila euro di monetizzazioni ecco volevo chiedere a cosa si riferivano queste monetizzazioni e poi a me risulta anche l'accensione l'accensione di un mutuo di 428 mila euro per queste manutenzioni stradali poi lo chiedo a Marco che poi mi spiegherà meglio è una variazione di bilancio sì che tocca sia la parte convento di Arra ripetutiamo dal regolamento d'altra volta che se si richiede una replica lei chiede una replica all'assessore oppure no dopo lo chiedevo quando risponderanno non una replica nel quale no no va bene va bene quindi non non chiede una cosa dopo alla fine della discussione ma dopo alla fine delle repliche quando lo possono intervenire bene ok sembra ora mi hai fatto perdere il 400 ecco per questi mutui è una spesa è una variazione di bilancio dicevo che investe sia che riguarda sia la parte corrente che la parte per gli investimenti infatti è una variazione di bilancio che è per la maggior parte di spesa corrente infatti viene incrementata di circa un milione e duecento mila euro e 800 mila euro riguardano gli investimenti ecco per quanto riguarda questa questa spesa corrente sono andato a vedere ad esempio per quanto riguarda la missione dell'ordine pubblico e della sicurezza lì vi è solamente una piccola variazione e questo lo trovo sbagliato perché secondo il mio punto di vista la sicurezza e l'ordine pubblico meriterebbero più attenzione anche in funzione e visto quello che sta succedendo sul nostro territorio quindi dico io bisognerebbe allocare più risorse su questo settore prevedendo anche spese ulteriori nel senso anche la la vigilanza H24 di certe zone del nostro territorio e specialmente nel periodo estivo nella zona del nostro ditorale quindi trovo una mancanza che questa questa missione di pubblico e di ordine pubblico e sicurezza non sia così tenuta in considerazione così come non è tenuta molto in considerazione la la tutela la valorizzazione sia dei beni che delle attività culturali anche qui vi è una piccola variazione non è che si investa molto nel corso dell'anno in queste manifestazioni come sappiamo bene queste manifestazioni sono quelle che poi portano gente sia all'interno del nostro cerchio storico che sul nostro litorale e qui mi verrebbe anche da pensare e do un suggerimento di cominciare a pensare anche ad attività culturali pensarle già ora per destazionalizzare un pochettino l'attività l'attività nel nostro centro storico prevedere eventi anche nel periodo invernale poi per quanto riguarda anche la tutela e la valorizzazione no scusate anche per quanto riguarda le attività le politiche giovani dello sport anche qui lo trovo abbastanza lo trovo abbastanza misero quanto è destinato a queste missioni vedo che poi se abbiamo portato lo sono signato a 50.000 euro la spesa per risarcimento d'anni e anche qui mi chiedo se non sarebbe se non sarebbe stato meglio prevedere delle polizze assicurative ad hoc ora non so a cosa si riferiscono precisamente questi 50.000 euro di risarcimento d'anni cioè la variazione 20.000 euro che lo portano a 50.000 euro come vedo che crescono molto gli incarichi professionali all'ufficio tecnico che lo portano il costo di questi incarichi a 97.000 euro come quelli nell'edilizia privata che nell'edilizia privata abbiamo un incremento di 40.000 euro che portano a 75.000 euro gli incarichi professionali quindi praticamente sì e dopo si va anche incontro alle esigenze sociali e questo va benissimo sono pienamente d'accordo ma bisognerebbe secondo il mio punto di vista fare maggiore attenzione nella spesa corrente che poi è quella che non genera ricchezza non genera niente mi fa piacere ho visto nel piano cliennale piacere per modo di dire che nel 2022 è stata reinserita l'intervento di bonifica dell'area ex di scarica di Bernardone io mi ricordo quando feci presente questo in consiglio comunale Pierucci mi disse sì però non è detto che se togliamo questi soldi non li ritroviamo fra le pieghe di bilancio andatevi a vedere tanto è vero dopo che però è stata fatta una nostra interrogazione anche in regione toscana da parte del nostro consiglio regionale guarda caso strano questo accantonamento viene rimesso in bilancio forse perché erano soldi destinati non potevano essere utilizzati per nessun'altra cosa però quello che è grave è che quell'area non è ancora stata bonificata è dieci anni che siete al governo del nostro territorio e quell'area persiste nelle condizioni in cui persisteva dieci anni prima negli anni prima del vostro insediamento quindi mi viene da dire che l'ambiente e la salute sono priorità a giorni alterni per voi non è che siano priorità quando amministrate non lo so se sono priorità quando amministrano gli altri sì quindi anche lì la trovo effettivamente una lacuna volevo chiedere effettivamente qual era la spesa di 40 mila euro mi ha disposto l'assessore Terucci qui in via Radicchi e mi fa piacere perché io in una commissione urbanistica di cui faccio parte feci presente che sarebbe stato bene acquisirlo per il fabbricato e toglierlo per poter far circolare meglio i veicoli perché lì non ci circolano più il camion non ci passano e sono costretti a passare da Vado creando tutti quei problemi di circolazione che creano vedo in questa in questa variazione vedo anche però che slitta la costruzione del parcheggio di Biafondi nel 2022 e un'altra cosa un'altra grave mancanza da riscontro anche per quanto riguarda il campo il campo di atletica in località Tori che quelle tribune non sono state previste non sono state previsti investimenti per per togliere quello stato di pericolosità in cui versano quelle tribune non si è mai provveduto alla copertura di quelle di quelle tribune purché benché ne avessero proprio bisogno e invece si destinano 180.000 euro che io sono d'accordo non è che sono contro la copertura di una tribuna in un'altra località disinteressandosi disinteressandoci completamente quindi dall'atletica leggera questa associazione abbandonata a se stessa questa associazione che forse non è nelle vostre pieghe non attira il vostro consenso vedo che Favilla ride perché ha già capito a cosa mi riferisco può darsi che sia qualcosa che ha perorato lui la causa della tribuna in altro luogo quindi benissimo che ci sia questa attenzione per certe realtà per le attività sportive eccetera ma che lo sia anche per quelle realtà che magari hanno bisogno di essere aiutati perché tengono in alto il nome del nostro comune lo tengono in alto a livello nazionale lo tengono in alto solo a livello locale quindi mi meraviglia che per quanto riguarda il campo di atletica leggera non sia stato previsto nessun tipo di investimento nessun risanamento di quell'area mi si dice che verranno messi a gara sì ma anche chi subentrerà voglio vedere come riuscirà a lavorarci in quelle nello stato in cui si trova poi non esistono io conosco la realtà di Camaiore in ogni campo al campo Tori non esistono attrezzature che siano propedefiche per poter tagliare l'erba al campo in via fonda non esiste il pettine per pettinare l'erba nonostante siano anni anni e anni che vengono fatte queste richieste io sono senza parole ve lo dico con tutta sincerità quest'anno prevedete dice niente 8 milioni di opere pubbliche sul territorio non è che prevedete poco rispetto alla variazione numero 3 che c'è stata qualche mese fa da 7 milioni e due avete portato 8 milioni spiegatevi bene perché è bene che il nostro comune rifiore e cresca io sono per farlo crescere non per farlo abbattere grazie grazie consigliere Erla c'è qualcun altro consigliere che chiede la parola consigliere Lunardelli prego consigliere Lunardelli prego consigliere Lunardelli non funziona il microfono no non funziona no non la sentiamo provi a staccare il microfono direi di attaccarlo magari non si sente se siamo d'accordo se siamo d'accordo si va avanti magari il consiglio ecco non funziona prego sentite sentiamo consigliere Lunardelli mi era tipo andato un blocco tutto non sentivo e non partiva il microfono si allora sì allora vorrei fare alcune considerazioni su questa pratica allora mi scuso per questo disagio tecnico allora intanto insomma io la butto lì insomma io ve lo dico se per caso vi fosse mancata insomma noi ridiamo e scherziamo però prima insomma sostanzialmente è stato in qualche modo denunciato un reato perché insomma è stato detto che sono tutte raccolte le firme false insomma non è una cosa che insomma è stata buttata lì ma insomma è stata detta una cosa quindi insomma forse pensiamoci magari prima di dire certe cose perché insomma se non ci sono le prove qui cioè vabbè però insomma io non so forse è una cosa detta così mentre vabbè detto lasciando da parte questo allora questa è una pratica che praticamente è divisa in due no potremmo dire in effetti e giustamente l'hanno firmata due assessori perché c'è una parte più strettamente finanziaria e una parte di lavori pubblici allora faccio una considerazione veloce sui lavori pubblici così poi me la tolgo quella parte lì perché mi interessa di più l'altra la cosa più interessante secondo me cioè sono tutti interventi ovviamente importanti però ecco la più interessante è questa idea di provare a compensare diciamo no la struttura pluricomunale in cui siamo inseriti per quanto riguarda l'edilizia popolare ecco diciamo così e è una buona idea sostanzialmente credo che sia credo eh ci sia sotto l'idea di inserirsi in questa nuova in questo nuovo concetto che da un po' di anni è abbastanza diffuso che è quello della housing sociale no questa idea della housing sociale che poi è la stessa cosa di quello che erano in passato i piani di zona solo che in una trasformate in un altro modo perché non si pianifica più come ho già detto in altre circostanze quindi io come detto già in un incontro in sede di maggioranza sono favorevole purché si faccia una cosa sistematica cioè l'housing sociale oggigiorno ha un senso se si fa una cosa non sporadica ma sistematica cioè si dice deve diventare un obiettivo dell'amministrazione bene e allora pian piano si mette lì un progetto in prospettiva su come deve si deve far fronte a queste esigenze perché se deve essere una cosa sporadica che c'è la possibilità di acquistare da un privato consigliere Lardelli non la sentiamo più consigliere Lardelli non la sentiamo non la sentiamo consigliere Lardelli non la sentiamo non la sentiamo mi senti? ecco prego e vabbè dai insomma vi siete persi un po' di roba ma tanto non è importante vi preoccupate non mi ascolta nessuno vado avanti anche se insomma vi sarete persi qualcosa insomma dicevo che secondo me l'housing sociale ha un senso nel momento in cui c'è c'è un progetto sistematico e non è una serie di interventi settoriali spacchettati che sono per carità importanti però diciamo si perde il quadro generale ecco per quanto riguarda l'aspetto invece più strettamente finanziario allora c'è un aspetto che secondo me è stato un po' sottovalutato questa sera ma non perché ma perché giustamente l'assessore doveva doveva spiegare tutto quindi non è affatto una critica a lui che come sapete stimo molto quindi non è che però è chiaramente nella presentazione ha lasciato meno spazio alla parte dei trasferimenti statali che secondo me invece è una parte molto importante perché dobbiamo secondo me entrare in un'ottica di già del superamento della fase dell'emergenza perché chiaramente in questa fase lo Stato ha trasferito molte risorse e noi abbiamo beneficiato noi tutte le amministrazioni locali hanno beneficiato di queste risorse e le hanno potute a loro volta diciamo concedere trasferire alle attività ovviamente sulla base di determinati criteri chi più aveva perso a causa del lockdown e comunque delle restrizioni in generale però ecco secondo me dobbiamo essere diciamo molto molto precisi su diciamo l'utilizzo di una logica premiale perché appunto questi soldi dello Stato finiranno non appena speriamo presto finirà la pandemia e quelli che vengono non vanno mai dati sostanzialmente a pioggia perché la logica a pioggia poteva andar bene lo scorso anno quando ovviamente il lockdown era generalizzato e alcune attività effettivamente nel 2020 praticamente non hanno lavorato quest'anno la realtà è molto diversa anche se le restrizioni ci sono ma insomma determinate attività hanno ripreso a potremmo dire quasi a pieno regime quindi ecco secondo me su quello bisogna fare un ragionamento veramente premiale cioè se vogliamo premiare qualche attività sì ovviamente dato per scontato che bisogna ristorare chi continua a essere chiuso o comunque ha dei limiti grossi come ad esempio chi ha attività di trattenimento danzante eccetera però ecco per chi lavora oggi può lavorare ecco i trasferimenti che non siano a pioggia ma siano mirati e quindi premiamo anche diciamo le attività che sono precise che sono più puntuali in tutto compreso anche il pagamento delle imposte no perché poi insomma bisogna anche tener conto che c'è un nero che va va combattuto e il comune di Camaiore l'ha sempre combattuto bene nella sua storia nero quindi ecco però anche in questi trasferimenti a pioggia bisognerebbe tener conto anche di questo oltretutto insomma è uscito anche nei giorni scorsi un'inchiesta sul quotidiano nazionale che mi ha anche abbastanza stupito e insomma un'inchiesta sulle attività stagionali diciamo così ora vabbè lasciamo perdere che quell'inchiesta era mirata aveva un obiettivo ben preciso tipo politico che ovviamente non mi interessa però ecco insomma mi aspettavo una presa di posizione da parte delle amministrazioni versilesi visto che è un'inchiesta fatta in versile invece non c'è stata non è grave per carità però ecco insomma quando si tratta di distribuire soldi noi in qualche modo come tramite perché alla fine arrivano dal centro e noi li giriamo ecco sì spero che si sia sempre molto puntuali nella determinazione dei criteri in modo appunto da favorire il più possibile delle logiche premiali ecco tutto qua per il resto va tutto bene grazie grazie consigliere Lunardelli consigliere Menchetti grazie presidente nel merito della pratica che stiamo discutendo mi preme sottolineare un aspetto che è stato giustamente anche fatto rilevare dal consigliere Lunardelli del quale tra l'altro ne abbiamo parlato anche in precedenti occasioni di confronto a maggioranza su questo e è l'investimento che il comune si appresta a compiere rispetto alla dotazione del fabbisogno rispetto all'emergenza abitativa è un passo importante e come sempre succede anche quando ci danno dimensione non insieme una visione di insieme del tema di cui stiamo parlando invocando appunto una visione di sistema e io sono dello stesso avviso assolutamente dello stesso avviso con l'avvertenza ulteriore che se il comune di qui in avanti intenderà porsi proporsi e gestire per quanto possibile più direttamente dotandosi quindi di un parco diciamo un parco abitazioni il proprio fabbisogno dell'emergenza abitativa ecco una volta di più lo deve fare con strumenti anche innovativi quindi inserendosi se possibile su un mercato come quello locale in cui come in gran parte d'Italia assistiamo al paradosso di un paese di gente senza cassa e nello stesso tempo un paese con le casse vuote trovare le case dove sono le case per la gente che non le ha ecco se questa è la politica che intende perseguire il comune il gesto che facciamo oggi è veramente un gesto importante perché ci mette in un solco che dobbiamo proseguire ci deve dare a tutti la responsabilità di farlo nella consapevolezza che i bisogni abitativi per poterli affrontare e gestire con tempismo hanno bisogno di una risposta che possa trovare una capacità e un'efficienza di gestione come questa è un segnale storico importante da molto tempo non avveniva e se si accolta questa sensibilità io mi auguro che ci sia anche il coraggio di poterla proseguire nel tempo facendo non investimenti che limitano le possibilità delle attrezzature e delle funzioni pubbliche nel patrimonio già esistente pubblico ma che semplicemente mettono a disposizione attraverso un rapporto da stringere con il mercato delle abitazioni in questo scopo il resto della variazione di bilancio che discutiamo tiene conto di una serie di prelogative di volontà dell'amministrazione volontà che possono essere condivise o meno e questo ovviamente ognuno fa il suo ruolo questo consiglio nella maggioranza e nella minoranza e la variazione serve proprio per aggiornarle queste priorità queste valutazioni serve per tenere conto di mutate esigenze anche di carattere interno all'ente e qui mi riferisco per esempio a situazioni su cui l'amministrazione interviene pur nella complessità delle materie come quelle che riguardano l'aumento della spesa corrente per l'aggiunta di dotazione all'ufficio edilizia e questo è un fatto di responsabilità di necessità ma che serve a dire in sostanza che i nostri cittadini che guardano con interesse a degli strumenti fiscali che possono premiare la ristrutturazione il recupero edilizio spesso hanno la necessità di poter provvedere a tutto questo ma anche a delle pratiche edilizie non evase da molto tempo non sempre per responsabilità dei comuni anche per e soprattutto responsabilità di parte per non aver provveduto nei tempi e nei modi opportuni a regolarizzare determinate situazioni in questo momento ne abbiamo urgenza però di regolarizzarle se è possibile perché rispondiamo a una domanda estesa di diversi cittadini che ricorrono a possibilità che il nostro legislatore ha messo in campo e quindi mi sembra che sia direttamente conseguenziale il fatto che si decida di intervenire nella struttura della struttura dell'ente dotandolo di risorse di energie in più del retto le professionalità delle professionalità più accreditate non ne abbiamo mai fatte a meno in questi anni di amministrazione in questi anni di amministrazione se ricordate le battaglie più grosse quelle che avevano bisogno di essere supportate da competenze tecniche più autorevoli le abbiamo individuate le abbiamo cercate nella consapevolezza che ci servissero che servissero davvero i contributi più qualificati nelle specifiche discipline per lasciare poi agli organici degli uffici non un lavoro secondario ma un lavoro amministrativo che è necessario senza il quale non si va da nessuna parte e che non è sostituibile da altre competenze e in questo senso vanno anche quelle stesse di cui parlava il consigliere Eta distribuite nei vari settori di cui riconosciamo un bisogno una necessità una prerogativa e una priorità e rispetto poi agli investimenti la politica degli investimenti è fatta appunto di tutto questo di necessità di priorità e quelle che sono state individuate anche nei termini dell'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche ci corrispondono in questo senso io non voglio anticipare valutazioni ulteriori che potrebbero emergere dal dibattimento mi sembra che lo scenario e la strategia con cui l'amministrazione si muove lo vediamo dopo tra l'altro anche nella pratica che è direttamente collegata perché riguarda le tariffe sui rifiuti è una politica che anche nelle scelte di bilancio si mantiene da un lato gli equilibri e questo è un atto è un riconoscimento che penso sia unanime o perlomeno dovrebbe esserlo dopo diversi anni di impegno perché questo è un comune che mentre che gli altri se ne sono andati al dissesto a Ramengo è un comune che ha continuato a fare degli investimenti è un comune che ha continuato a risanare i propri bilanci che ha messo al sicuro a determinate esposizioni questo succede anche rispetto ai contenziosi ancora aperti tutte le volte tra l'altro la minoranza ce lo ricorda questo eppure succede è successo che quei contenziosi molto coraggiosi in cui l'amministrazione si è impegnata in questi anni non li ha fatti al buio non li ha fatti al buio li ha prima di tutto messi al sicuro per quanto riguardava la propria esposizione economica oltre a questo oltre a una gestione interna a cui ha potuto apportare diciamo un contributo legato al fatto che in certi momenti servissero più energie anche esterne non si è limitata a come dire fare un ordinario no? e quindi gli investimenti tra l'altro nel corso del tempo con una progressione significativa mi viene in mente per esempio tutte le vicende che hanno riguardato la scuola media Pistelli che anche oggi è oggetto di un intervento conclusivo potremmo dire di messa in sicurezza definitiva dalla parte strutturale e gli interventi che ci sono stati nell'anno passato e a cavallo di quest'anno insomma sono stati significativi hanno comportato un'assunzione di responsabilità da parte di un'amministrazione che non si era mai vista da quando la scuola era stata fatta fino a oggi che completiamo la rimozione dell'Eternit ora in una lettura come dire poco informata distante che cerca di come dire attrarre del consenso facile sicuramente è semplice stracciarsi le vesti e dire che questa è un'amministrazione immobile che non ha prodotto investimenti che non ha cambiato minimamente la percezione della vita dei propri cittadini in questi dieci anni però mi sembra una lettura francamente francamente molto ardita che non ha corrispondenza tra l'altro nella vita della città e di questo faremo bene tutti a accorgercene perché l'attito di questa amministrazione una volta che sarà conclusa sarà sotto gli occhi di tutti saranno delle scuole più sicure saranno un'attenzione sarà un'attenzione significativa al disagio che si è alimentato soprattutto in questi anni saranno delle politiche rivolte all'attenzione ai servizi alla persona che non erano per niente scontate e su cui siamo di sicuro la testa di serie nelle politiche in questi servizi per cui che riguarda la Versilia insomma scelte adeguate scelte di responsabilità che anche nelle pratiche che periodicamente ci vengono proposte e che aggiornano il bilancio di previsione ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta grazie consigliere Menchetti io non avrei altri consiglieri che mi chiedano la parola Presidente io ho provato a scrivere però non non mi invia il messaggio è il solito problema ho sempre questo problema non so come mai qualcuno mi ha fatto qualche rito non lo so premetto che non volevo nemmeno intervenire però quando ho sentito il consigliere Menchetti dire progressione significativa degli investimenti allora a quel punto mi ha stimolato ecco mi ha stimolato l'intervento non qualcosa premetto che la materia è ostica molto ostica tuttavia quello che è richiesto mi sa che il voodoo va avanti mi sentite perché ecco ho appena ricevuto ho appena ricevuto una chiama mi sentite ora si ecco il voodoo va avanti comunque dicevo che è una materia ostica però quello che è richiesto a noi consigliere comunali non è tanto quello di andare a verificare che i singoli valori delle poste di bilancio siano stati correttamente determinati determinati quindi in base rispettando i requisiti previsti alla legge dei principi contabili quello che deve fare il consigliere comunale è diciamo un'analisi di questi documenti di bilancio e da questa analisi farsi poi un'idea di quella che è la politica che è stata portata avanti da questa amministrazione e io vorrei prima di scendere nel particolare vorrei fare un discorso generale in particolare vorrei richiamare i precedenti piani triennali delle opere pubbliche allora nel piano triennale delle opere pubbliche 2018 2021 erano previsti mutui a carico dell'ente per 1.795.000 euro il totale delle spese per le opere pubbliche era di 3.887.121.000 euro poi per quanto riguarda invece il piano triennale delle opere pubbliche 2019 2021 avevamo mutui a carico dell'ente per 2.446.000 euro il totale delle spese per le opere pubbliche era di 6.177.000 euro e l'importo destinato alla manutenzione straordinaria delle strade era di 300.000 euro per quanto riguarda invece il piano triennale relativo al 2020 2022 mutui a carico dell'ente erano 3.330.000 euro il totale delle spese invece ammontava a 7.57.000 euro circa i fondi previsti per la manutenzione straordinaria delle strade erano invece di 526.000 euro in questo piano triennale invece delle opere pubbliche quindi quello relativo al 2021 2023 quindi 2021 2022 2023 abbiamo mutui a carico dell'ente per 3.568.000 euro totale delle spese per le opere pubbliche è di 8.041.000 euro circa poi il totale invece dei fondi destinati alla manutenzione straordinaria delle strade è di 728.000 euro questo cosa significa questo significa sostanzialmente una cosa che si sta verificando quello che si è verificato nel 2016 e nel 2017 in sostanza l'amministrazione a ridosso della scadenza del mandato aumenta gli investimenti questo è un dato di fatto ho letto i numeri e dall'elettura dei numeri è emerso questo investimenti che investimenti che potevano essere fatti prima non sono stati fatti prima per un semplice motivo per motivi elettorali arriviamo a ridosso le elezioni e bisogna far vedere alla cittadinanza che l'amministrazione ha lavorato che l'amministrazione qualcosa fa il motivo principalmente è questo per quanto riguarda entrando più nello specifico per quanto riguarda alcune poste di bilancio ho notato e in questo mi ha anticipato il consigliere R un aumento delle spese per incarichi professionali oltre a questo ho notato anche un aumento delle spese per la cancelleria ecco questo aumento delle spese per la cancelleria mi sembra folle mi sembra folle perché si sta andando verso la completa digitalizzazione quindi io mi chiedo come mai le spese per la cancelleria siano aumentate un'altra questione di fondamentale importanza e su questo ecco su questa cosa sono d'accordo con l'amministrazione sono d'accordo con l'assessore per i rucci ho visto che nel piano triennale delle opere pubbliche relativamente al 2022 è stata inserita la discarica di Verdazzone ecco io non mi voglio prendere meriti perché non ce l'ho assolutamente però insomma la cosa è stata portata all'attenzione da parte di consiglieri regionali di diversi consiglieri regionali e portata all'attenzione anche di alcuni esponenti politici a livello nazionale è un tema che mi sta molto a cuore tant'è vero io avevo criticato fortemente l'amministrazione il 2020 quando decise di eliminare dal piano triennale delle opere pubbliche il risanamento della discarica di Bernardone ho notato che è cambiata rispetto al 2018 e 2019 è cambiata la fonte di finanziamento mentre nel 2018 e nel 2019 la fonte di finanziamento erano contributi i contributi regionali nel 2022 la fonte di finanziamento invece sono le fonti di finanziamento sono interne quindi muti a carico dell'ente l'unica cosa è che io sto aspettando e la sessore mi disse che sarebbe stata fatta visto che comunque le disponibilità di bilancio c'erano il piano di caratterizzazione questo piano di caratterizzazione è essenziale è fondamentale quindi prima di provvedere al risanamento della discarica di Bernardone è necessario provvedere a mettere a elaborare questo piano di caratterizzazione ecco l'ultimo punto che vorrei toccare è sui investimenti a livello sportivo sui impianti sportivi del comune ecco io ho presentato un'interrogazione sono rimasto male perché alle mie domande non è stata data alcuna risposta addirittura la sensore Perucci ha detto di presentare una mozione ma mozione per cosa io ho posto delle domande alle quali non mi è stato risposto punto non mi è stato risposto perché gli investimenti investimenti per gli impianti sportivi comunali sono stati in questi anni molto scarsi scarsissimi ma è un'altra cosa non soltanto gli investimenti sono stati scarsi ma non c'è stato nessun controllo da parte dell'amministrazione sui gestori su coloro che gestiscono gli impianti sportivi del comune perché è vero che l'amministrazione si deve occupare di eseguire i lavori di straordinaria amministrazione è vero però è anche vero che l'amministrazione tramite tramite l'apposita commissione prevista all'articolo 27 del regolamento per la gestione degli impianti sportivi del comune deve verificare che il gestore chi gestisce l'impianto abbia eseguito comunque i lavori di ordinare amministrazione anche perché se io non tappo una vuetta oggi magari fra due anni si crea una voragine tutto lì quindi va bene non ci sono stati investimenti da parte dell'amministrazione però a sua volta non ci sono nemmeno stati controlli è quello che ho detto quando ho risposto all'interrogazione per il resto presidente ho concluso mi risalgo poi intervenire successivamente grazie consigliere da Prato ci sono altre richieste ma io non vedo più nessun altro passerei quindi alle repliche capogruppo se non ci sono repliche passerei appunto agli interventi degli assessori per la loro replica assessore Mecchi sì rispondo a qualche richieste che sono in grado di rispondere non c'è aumento di indebitamento ma faccio presto non c'è aumento di indebitamento c'è soltanto un trasferimento diciamo delle fonti una diversificazione delle fonti di finanziamento delle varie opere pubbliche ma l'indebitamento rimane quello della precedente variazione monetizzazioni soprattutto in passato è stata una delle voci più importanti praticamente sono operazioni urbanistiche dove è previsto di realizzare dei determinati standard parcheggi parchi se non ci sono le condizioni per realizzare che per esempio non c'è lo spazio per il parcheggio vengono pagate all'amministrazione delle scifre anziché realizzare le opere queste in poche parole sono le monetizzazioni sulla sicurezza abbiamo sempre cercato di accogliere richieste del comando anche riguardo al personale abbiamo sostituito chi è andato in pensione poi abbiamo anche aumentato l'organico e assumeremo anche credo dei vigili estivi almeno l'ufficio stava lavorando anche su quello quindi anche su questo quello che viene chiesto generalmente cerchiamo di rispondere positivamente sull'attività culturali credo che siamo uno dei pochi comuni che ancora sta investendo nel settore ora era tutto fermo già da quest'anno vedremo diverse iniziative che riprenderanno ha ragione il consigliere Lunardelli bisogna fare attenzione su tutto e noi cerchiamo di farcela quello che è previsto in questa variazione saranno tutte diciamo tutti i finanziamenti che da sempre abbiamo fatto ad esempio quello sui privati con richiesta legate all'ISEE abbiamo aumentato l'importo perché supponiamo come già è successo lo scorso anno che ci sia maggiore esigenze poi dovremo tornare alla normalità che è quello diciamo cui tutti speriamo e ci auguriamo anche che riprenda il lavoro e tante situazioni vengano praticamente a accessare sugli impianti sportivi una cosa io ve lo vedo dal punto di vista finanziario mi sembra però di aver sentito delle cifre prima da parte del consigliere delegato allo sport Boccardo e basta prendere i piani pluriennali dei lavori pubblici tutti gli anni abbiamo investito poi sono tanti per fortuna gli impianti sportivi erano tanti da mettere in sicurezza ne rimane qualcuno ma credo che in questi anni l'amministrazione abbia fatto già tanto poi se vuole vedo anche io di tirare giù una somma degli investimenti di questi ultimi anni in questo settore però io lo vedo dal punto di vista economico finanziario e credo che anche in quel settore l'amministrazione come in altri abbia abbia investito grazie sessore Perucci solo due parole uno sempre in tema di impianti sportivi volevo chiarirmi con il consigliere da Prato io quando ho detto la mozione non era in senso critico ironico lo dicevo perché mi era rimasto solo 17 secondi quindi non avevo il tempo materiale per affrontare un tema così importante come quell'impianti sportivi dove io penso che in questi anni si sia fatto molto quindi volevo solo dire che se vogliamo ampliare la discussione su questo tema magari lo possiamo fare con uno strumento a disposizione del consiglio comunale che ci consenta più tempo per poterne parlare solo per questo mi era rimasto 17 secondi e non riuscivo a rispondere a tutto quello che c'era a dire in merito solo per questo ho detto quella frase insomma ecco e più precisavo mi piace precisare come ha detto già fatto dall'assessore Mecchi che anche per quanto riguarda gli investimenti non c'è assolutamente alcun aumento di indebitamento quindi i mutui che sono stati incrementati sono stati tolti da altre opere pubbliche nel 2021 i mutui rimangono invariati e le monetizzazioni che noi abbiamo previsto nel nostro piano triennale sono monetizzazioni che sono già nelle casse dell'ente quindi non è che pensiamo nemmeno di incassarle legate alle ratizzazioni sono già incassate sul conto corrente dell'ente del comune di Camaiore quindi praticamente sono subito a disposizione per poter procedere con gli acquisti o con i lavori che abbiamo allocato a queste risorse grazie al sessore Pierucci il sindaco non mi ha chiesto la parola quindi andrò direttamente alle repliche scusate all'edicazione di voto c'è qualche consigliere che chiede la parola io non vedo nessun consigliere e quindi do la parola consigliere mi dica che cosa vuole ma c'è Federico semplicemente per dichiarare il voto favorevole del gruppo misto Italia Viva Camaiore e Suoi Borghi perfetto bene consigliere vuole intervenire in disaccordo col suo capolupo sì Italia Viva Camaiore e Suoi Borghi questo lo sento oggi prima di restare Italia Viva ora è capitale Italia Viva Camaiore Cebordi sì Riccardo se vuoi Camaiore Cebordi o il consiglio comunale se vuoi comunque grazie un attimo volta lo sentivo ma qui comunque siete come gruppo misto punto e basta tutto in due prego lui deve parlare a nome di Italia Viva allora sì ho preso atto di quanto spiegato dall'assessore Mecchi per quanto riguarda sia la monetizzazione ma lo sapevo cioè più o meno volevo capire insomma vuol dire che l'attività edilizia o in alcune Camaiore funziona meno male speriamo che funzioni ancora di più dopo che sarà approvato il piano operativo è tutto perché Camaiore di edilizia ci ha sempre vissuto e intorno all'edilizia ruota gran parte dell'economia camaiorese niente non mi trovo questa variazione di bilancio non la trovo però una variazione di bilancio fatta con lungimiranza è una variazione di bilancio che subisce gli effetti ma non non è l'ingiminante non prevede lo sviluppo di Camaiore si va a tamponare dove mancano i soldi ma perché ci siamo accorti che mancano i soldi e si va ad incrementare la spesa corrente dice il consigliere di Menchetti dice non ha cambiato la vita dei cittadini di Camaiore io per me si l'ha cambiata in peggio questa amministrazione mi dispiace da un punto di vista differente io non ho mai visto Camaiore così degradata Camaiore sia sotto tutto punti di vista dal punto di vista del lavoro dal punto di vista del decoro dell'attenzione dell'attenzione proprio al decoro del territorio di niente quindi per me l'ha peggiorata è una variazione di bilancio l'ennesima variazione di bilancio che non parla di sviluppo parla di andare a tamponare come ho detto prima alcune falle che questa amministrazione aveva previsto nelle poste di bilancio e va a togliere poste di bilancio toglie quelle che non reputa che li possano portare visibilità sul territorio in questo 2021 le trasferisce nel 2022-2023 che poi tanto non farà mai e destina in questa variazione di bilancio tante risorse per risistemazione stradale per far vedere che lavora quindi è una variazione di bilancio che io trovo ruffiana tra virgolette perché cerca di riconquistare quello che presumo in questi anni abbia perso in termini di consenso mi auguro che però i cittadini si rendano conto che questa amministrazione che per il lavora gli ultimi dieci mesi degli ultimi dieci anni e ne traga le conseguenze quindi non è una variazione di bilancio che possa presagire a uno sviluppo o a una lungimiranza non ci vedo un progetto di dire questa amministrazione sposa un progetto e comincia a investirci vede il destino delle risorse per investire sul turismo sportivo non ci vedo niente vedo veramente una variazione di bilancio tra pochi e poi vedo quello che ho già detto prima di andare a tappare buche buchette asfaltatura di strada per riconquistare quello che presumo nel corso degli anni abbia perso e vale a dire la credibilità di fronte dei cittadini quindi una variazione di bilancio che poi nella parte corretta è importante perché va a infisciare per circa un milione e duecentomila euro di spese improduttive e basta l'uniche cose che mi trovano d'accordo anche me è il fatto delle spese sociali sono d'accordo vanno tutelate le fasce più debole sono d'accordo anch'io bisogna aiutarle le persone più care ho visto c'era stato in una variazione di bilancio mi sono dimenticato di chiederlo prima c'era una voce che parlava di iniziative di rilancio economico locale 130 mila euro non riesco a capire cosa ci si riferisce che anche con questo mi dispiace lo devo chiedere prima va beh grazie il mio voto è contrario a questa variazione di bilancio grazie consigliere Anna ha chiesto il capogruppo del partito democratico a consigliere la gloria d'alessandra grazie presidente innanzitutto il voto del partito democratico è sicuramente favorevole ma non così per servilismo ma perché riconosciamo il valore dell'intervento della pratica che stiamo discutendo prima di tutto volevo far notare e ringraziare l'assessore Graziani e l'assessore Pierucci che sono decenni che un'amministrazione non investiva come ricordato anche dal consigliere Menchetti che non investiva nell'edilizia popolare e questo per noi è un segnale estremamente estremamente positivo l'emergenza abitativa è un problema e noi stiamo cercando così di dare delle risposte che sono delle risposte concrete al di là di quello che sono le chiacchiere che vengono più o meno si sentono per quanto riguarda poi il problema dei mutui l'accensione dei mutui che qualche consigliare ha citato non mi sembra che sia rimasta non mi sembra più corretta questa definizione ci sono stati diciamo che il saldo sui mutui è zero quindi non si sono accesi ulteriori mutui i mutui rimangono invariati e ulteriori mutui sono stati compensati da diminuzioni su mutui già previsti su altri investimenti quindi inoltre oltre oltre a queste osservazioni il motivo per cui noi ci sentiamo di votare favoritamente questa pratica volevo far notare che l'aumento della spesa corrente all'edilizia privata è legato al potenziamento dell'ufficio sono stati dati due incarichi per smaltire i condoni quindi due incarichi esterni sì è vero ma che cosa devono fare questi due incaricati devono sbrigare delle pratiche che sono collegate all'aumento di carico che c'è stato perché le politiche nazionali fiscali hanno richiesto degli interventi per quanto riguarda la messa in sicurezza sismica e risparmio energetico come sappiamo degli edifici esistenti e questo che cosa provoca provoca un rilancio dell'economia perché se si dà la possibilità di poter investire in questa direzione ne beneficiano i cittadini che fanno richiesta ma anche le aziende che possono lavorare in virtù di questi provvedimenti quindi concludo solo dicendo che per quanto mi ricordo un paio di consigli comunali fa noi abbiamo approvato una pratica che prevedeva una monetizzazione di una struttura alberghiera se vi ricordate non so forse voi non l'avete approvata ma noi sì e questo ha portato nelle casse del comune una somma ingente mi sembra di ricordare sui 300 o 400 mila euro mi sembra su questo non sono secolismo e che noi utilizziamo anzi che l'amministrazione converte in quello che ritiene più opportuno quindi ci torna perfettamente tutto grazie presidente grazie a lei consigliere il consigliere Lunardelli grazie presidente speriamo che non mi salti di nuovo il microfono allora no apprezzo che diciamo l'assessore Mecchia abbia colto diciamo la mia invito a differenziare la logica anche nell'attribuzione risorse la logica emergenziale da quella ordinaria è chiaro che nel ritorno all'ordinarietà ci sarà da fare valutazioni molto diverse perché altrimenti diciamo poi mantenere la logica emergenziale sarebbe problematico perché potrebbe creare degli scompensi proprio di bilancio sarà dura perché chiaramente c'eravamo un po' abituati anche a questi trasferimenti dallo Stato che ovviamente fanno comodo però finiranno e quindi è bene ricominciare a tornare a logiche più anche rigorose il consigliere R ha toccato un argomento importante che è quello delle risorse per la messa in sicurezza e comunque la ristrutturazione degli impianti sportivi e chiaramente lui stesso aveva notato ma lo sappiamo tutti che un pochino conosce quella realtà che la situazione più critica è quella del Tori prevalentemente per quanto riguarda l'atletica cioè il campo d'atletica e la connessa attività che lì si svolge io non non lo so faccio una mia una mia ipotesi e se è questa l'ipotesi l'amministrazione ha agito bene però è una mia ipotesi non so se hanno esito così perché è una mia ipotesi l'ipotesi potrebbe essere che visto che siccome lì ci sono delle c'è da fare un ragionamento serio di lungo periodo e anche delicato secondo me perché appunto il campo lì è in uno stato non accettabile e c'è anche una questione relativa all'attività che si svolge lì e quindi ecco se lì l'idea è stata aspettiamo ormai la nuova diciamo le elezioni quindi diciamo un nuovo sindaco perché che ha davanti un mandato lungo e quindi possa affrontare una politica su quello allora mi sembrerebbe un ragionamento molto sensato perché effettivamente cioè fare un ragionamento serio ora sul sul tori non lo so se sarebbe corretto cioè a questo punto è meglio appunto andare avanti con un affidamento diretto in via temporanea e con una ristrutturazione per quel che si può fare e poi appunto con un'amministrazione diversa vedere perché secondo me lì c'è da fare un ragionamento molto molto ampio e molto serio ed è giusto che secondo me lo faccia chi ha davanti una prospettiva lunga quindi un inizio chiunque vinca abbia una prospettiva lunga in modo da poter iniziare un nuovo percorso su quella su quella struttura e quindi ripeto alla fine sostanzialmente ecco sull'housing sociale anche lì si è vero e importante ma mi raccomando cioè non non andiamo avanti con l'idea di dire si capita l'occasione prendiamo questa se si vuole affrontare si faccia una politica sull'edilizia residenziale di tipo sociale ma una politica non un singolo intervento questa è una cosa che mi prevedebbe che l'amministrazione facesse anche in questo caso in futuro comunque il voto diciamo complessivamente anche per la discussione che è emerso il voto della nostra o gruppo è favorevole grazie consigliere Nardelli nel frattempo la consigliera Lugani è uscita dalla seduta e dò la parola al consigliere del dotto al sindaco scusate al sindaco del dotto Alessandro qui presidente non vuoi anticipare il sindaco non mi vuole sostituire però io non riesco a scrivere ho alzato la mano non so se mi ha visto ma tanto puoi intervenire anche dopo il sindaco grazie presidente io ci tengo solo a come dire provare a dare un contributo in serie di dichiarazioni di voto per delineare in modo piuttosto chiaro qual è anche il senso però di questo tipo di di pratica che approviamo stasera in consiglio comunale c'è una visione dietro questo ragionamento che non è lo dico per asserenare il consigliere non è quello di tappare le buchette perché per tappare le buchette non c'è bisogno di variazioni di bilancio di questo tipo semmai è per completare una visione che non è ancora finita perché ci sono ancora diversi mesi di amministrazione che abbiamo davanti e che riguarda anche il saper cogliere alcune opportunità che il momento ci offre tra cui la possibilità di investire su un patrimonio e su un acquisto di edilizia economica e popolare risolvere alcune questioni infrastrutturali citava l'assessore Pierucci la questione delle strettoie stradali la questione ovviamente della parte di quei mutui che sono dedicati agli acquisti posto anche la segnale sul fatto che nella variazione di bilancio sono previste le risorse per l'esproprio dopo una regolarizzazione dei rapporti dell'esproprio della riscarica di Bernardone per consentirci di fare finalmente quell'investimento di risanamento dell'area e in più è vero ci sono anche dei momenti in cui ci siamo confrontati perché abbiamo valutato la necessità di espandere una parte della spesa corrente dedicata per esempio al rafforzamento dell'edilizia privata che in questo momento è uno dei settori più bersagliati perché non solo gestisce la parte ordinaria e non solo collabora ovviamente con la parte di pianificazione per preparare quegli strumenti che nell'arco del prossimo mese auspicabilmente vengono all'attenzione del Consiglio Comunale ma perché c'è anche la parte straordinaria legata al periodo che viviamo e l'opportunità dei bonus che il governo ha messo a disposizione dei cittadini che richiedono degli sforzi straordinari in termini di disponibilità a le varie pratiche e di disponibilità ovviamente a dare risposte e interlocuire col settore dei tecnici abbiamo passato non lo nego un periodo particolarmente funesto sul contatto con i tecnici di questo io mi scuso anche in parte ma era dettato non solo dalle deficienze strutturali e organizzative dell'ufficio la mancanza di personale le vicissitudini che ci sono state è stata dettata anche però appunto dal periodo del covid che ci ha sottratto una parte di quei contatti personali che erano necessari li riprenderemo ma li riprenderemo una chiave di investimento anche sul personale per dare più risposte per darle più velocemente per aiutare il mondo del lavoro per aiutare il mondo del professionismo e per aiutare ovviamente dare un contributo anche sul fronte dei benefici per l'economia c'è una visione dicevo dietro che non si esaurisce in questa variazione di bilancio non di meno ovviamente questa variazione di bilancio dicevo che parla anche un altro linguaggio che è quello che abbiamo parlato in questi anni cioè il mettere in sicurezza un patrimonio che va conservato e mantenuto che è quello esistente del comune un patrimonio intendo in generale non solo le cose materiali ma anche quelle immateriali in tempi come quelli che abbiamo attraversato era necessario indispensabile far pronte alla messa in sicurezza cioè a garantire quello che era indispensabile appartendo da quello che esiste e concludo per dare anche un conforto al consigliere Lunardelli perché il motivo per cui gli investimenti anche sul Tori attendono è che dobbiamo attendere il gestore perché come tutti gli impianti che devono ovviamente vedere un passaggio in gara abbiamo dovuto fare una scelta che era quella intanto di dotarci di un interlocutore su quell'impianto che ci aiuti a capire che tipo di investimenti effettivamente servono sapete che lì ci sono controversie annose nei rapporti fra il titolare della concessione gli altri soggetti che magari sono il rapporto anche strutturale perché fisicamente è un unico luogo con il concessionario quindi aspetteremo di avere il prossimo gestore non vogliamo lasciare la patata bollente come si direbbe alla prossima amministrazione però vogliamo dare un tracciato sicuro di lavoro su cui poi partire con il nuovo gestore per garantire quelle risorse che servono a una messa in sicurezza e anche ovviamente a una riqualificazione di un impianto che come si direbbe è nato male per questioni tecniche sappiamo tutti che quell'impianto ha sempre generato preoccupazioni e problemi per varie amministrazioni neanche solo per questo quindi presidente io dichiaro ovviamente il mio voto favorevole ribadendo che ovviamente questa variazione va concepita come uno step all'interno di un percorso e di una visione che è quella che in questi anni abbiamo coerentemente cercato di portare avanti con i nostri limiti i nostri difetti ma cercato di portare avanti garantendo quei valori che dicevo grazie sindaco ha chiesto la prova dal consigliere da Prato per il gruppo della Lega grazie presidente sì per la dichiarazione di voto e niente e assessore Mecchi la ringrazio se riesce a tirarmi giù un prospetto mi farebbe piacere visto che all'interrogazione che ho presentato non mi è stato disposto e poi volevo fare due precisazioni ho sentito che la consigliera D'Alessandro ha detto che sono diversi decenni che non vengono fatti investimenti nell'inizia popolare io ricordo nonostante fossi molto giovane fossi bimbo comunque l'amministrazione Bertola ha investito nell'inizia popolare comunque qui in consiglio comunale c'è una stimolianza diretta c'è il consigliere Matteucci che all'epoca era maggioranza quindi sicuramente ne sa meglio di me e meglio di tutti comunque io ricordo che l'amministrazione Bertola ha investito nell'inizia popolare l'ultima precisazione sempre sempre per la consiglia D'Alessandro ecco quello nel mio precedente intervento io insomma ho fatto un quadro ho analizzato i mutui e le spese che l'amministrazione ha fatto dal 2018 fino ad oggi e dall'analisi che ho fatto è emerso che siamo passati dal da un milione ottocento mila euro di mutui nel 2018 a 3 milioni e mezzo nel 2021 inoltre siamo passati da una spesa per le opere pubbliche nel 2018 di 3 milioni e 800 mila euro circa a una spesa di 8 milioni e 41 mila euro nel 2021 io non voglio dire che il comune non è stato qualsimunioso che ha speso a caso non voglio dire questo vuoi solamente dire che investimenti potevano essere fatti in maniera costante non tutti all'ultimo questo modo di amministrare questo modo di investire lo vedo un modo per accaparrare voti la vedo una trovata propagandistica ci avviciniamo alle elezioni e facciamo lavori per far vedere alle cittadinanza che l'amministrazione ha lavorato e può lavorare in futuro io non condivido questa politica la politica che intendo io è una politica costante investimenti costanti nel corso del tempo pertanto il voto della Lega sarà un voto negativo grazie presidente grazie consigliere da Prato nel frattempo consigliere da Prato si parlava di emergenza negativa scusi scusi consigliere la gloria d'alessandro no no abbiamo parlato di edilizia popolare io me lo sono segnato in cui è venuta siamo al bar dove ognuno può intervenire a salo uno , se ne ricorda a caso allora per favore nel frattempo ho avuto la comunicazione da parte del consigliere Boccardo che deve uscire per motivi suoi familiari e quindi ha abbandonato la salo la seduta io faccio un intervento velocissimo dichiarando il voto favorevole alla variazione di bilancio semplicemente per dire che edilizia popolare in questi ultimi venti anni c'è stato ben poco se non nulla diciamo io le uniche due case che in qualche maniera si possono ricordare possono essere quelle le compagnie un comparto a capezzano ma non mi viene in mente altro e quindi ben bene quello che è stato detto finora comunque il mio voto è favorevole io non so se ci sono altri consiglieri che chiedono la parola ecco non vedo più nessun altro quindi a questo punto dare la parola al segretario abbiamo il doppio voto perché abbiamo anche limitato eseguità della pratica quindi la prima è sulla pratica il secondo voto che vedrei che viene espresso in contemporanea e invece è sulla limitata eseguità della pratica do la parola al segretario Fabrizio Del Dotto per la chiama sì iniziamo con il sindaco Alessandro Del Dotto favorevole favorevole Menchetti Jacopo favorevole favorevole Petonese Federico favorevole favorevole D'Alessandro Gloria favorevole favorevole Maggi Fabrizio favorevole favorevole Dalle Luche Graziano favorevole favorevole Rompi Nicola non si sente noi la sentiamo il consigliere Rompi la sentiamo quindi come ha votato io non lo sento però ho più a vado puoi scrivere un gesto sì ho capito sì sì ok sì sì me lo ho proprio sentito no io no ma è problemi di connessione Benedetti Angelo favorevole favorevole Gemignani Patrizia favorevole favorevole Lemetti favorevole giacomini Alberto no sì terra contrare favorevole 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 Matteucci Alberto astenuto favorevole e da Prato Niccolò contrario favorevole i 17 consiglieri hanno espresso 12 voti favorevoli 4 contrari e un astenuto per quanto riguarda l'immediata esecutività c'è stata prevalenza di voti favorevoli devo verificare un attimo però sono ultimi non so se il presidente ha deciso no allora io mi sembra di aver sentito tutti favorevoli l'immediata esecutività della pratica mi sembra di aver sentito questa cosa qui mentre posso confermare i consiglieri? se c'è qualcuno che ha votato te Riccardo e voglio contare contrario contrario favorevole sono 3 contrari non 4 mi sembra allora io ho segnato come contrario Giacomini Erra si è vero Andreini è favorevole quindi ho sbagliato io sono 13 favorevoli e 3 contrari 3 contrari sono stati Giacomini Erra e Daprato astenuto Matteucci Alberto gli altri 13 favorevoli ecco sì lo scrutatore Riccardo Erra ha subito fatto bene il suo lavoro e quindi la pratica è passata con 13 voti 14 voti favorevoli no 14 voti favorevoli 1 astenuto e 3 contrari giusto? si su 17 votanti mentre la pratica è stata votata all'unanimità per quanto riguarda l'immediata esigualità grazie come d'accordo in conferenza del capigruppo abbiamo stabilito che verso le 8 8 e mezza avremmo fatto una pausa di mezz'ora appena io direi se siamo d'accordo la consigliera D'Alessandro aveva fatto una proposta di anticipazione di una pratica la confermo oppure no? io l'ho chiesto ci vediamo dopo allora prima di chiudere io voterei subito l'anticipazione della pratica chiudiamo e poi si riprende con l'anticipazione della pratica se non c'è nessuno contrario se non c'è nessuno astenuto che lo può dire pubblicamente io lo prenderei per buono che si riparte con la richiesta da consigliere D'Alessandro di anticipazione della pratica numero 7 giusto? ecco c'è qualche consigliere che non è d'accordo? o qualche consigliere che si allora se nessuno se siamo tutti d'accordo allora si riprende tra mezz'ora esatta alle 9 e 06 con la pratica numero 10 no no sono 30 minuti 30 minuti alle 9 e 06 grazie allora io se qui sta qui che succede? no basta grazie la scritta che il consiglio è il pranzo in tre segno non si è come si è non si è qui ti indicolvi è un altro loved dati non erano vinciti di altre sera che è la posa questa non si dipende si sta ridendo con la situazione andrea il microfono è aperto grazie grazie ti sento dalla sala giunta è attaccato il microfono in sala giunta è per quello che ti si sente in sala giunta in sala consigliare hai lasciato il microfono aperto in sala consigliare ci saluto per tutti i miei grazie che l'avete spento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Fabrizio mi senti giusto per curiosità Fabrizio sì dimmi grazie a tutti si ci sento era giusto per vedere se funzionava questa parte ok grazie ciao Fabrizio era una prova va bene sì 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 è una prova è una prova questa qui basta non la dici grazie Grazie a tutti. 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 Buonasera. 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 Vediamo se il segretario è presente. Presente. Perfetto. Quindi darei la parola al segretario. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo. Allora, chiederei a consiglieri presenti di accendere la telecamera. la consiglieri presenti di accendere la telecamera. La consigliere di onore dei metti è presente? E il consigliere Giacomini è presente? Se sono presenti per favore accendete il microfono. Il microfono è acceso semmai la telecamera. La telecamera, anche il microfono perché quando vedete chiamati. Prego, segretario. Del Dotto Alessandro. Presente. Menchetti Jacopo. Presente. Pedonese Federico. Presente. D'Alessandro Gloria. Presente. Maggi Fabrizio. Presente. Dalle Luque Graziano. Rombi Nicola. Benedetti Angelo. Presente. Gemigliani Patrizia. Presente. Eleonora. Lunardelli Marco. Famiglia Andrea. Presente. Iacomini Alberto. Presente. Erra Riccardo. Presente. Andreini Mario. Matteucci Alberto. E' da Prato Nicolò. E' presente. Abbiamo 11 consiglieri attualmente. Bene. Allora diamo la parola. Quanti consiglieri? C'è il numero legale. Non c'è il numero legale. No no, il numero legale c'è scusate. Quanti siamo? 11. Eh, il numero legale c'è. Prego. Siamo 24 consiglieri. Siamo 24. Oh, famiglia. Ma allora se volete vi leggo il regolamento. Sì. Guardiamo. Mi sembrava di notte, però. Poi invito la consiglieri dell'onore Lemetti ad accendere la telecamera che è presente. Che ha scritto che è presente, la prego di l'ambito di altri scorsi. Sì. Si ha l'ambito a accendere la telecamera. Si prevede la presenza di 10 consiglieri. 10 consiglieri. 10 consiglieri. 10 consiglieri. Perfetto. Io pensavo la metà, scusate. Bene. Passo la parola al consigliere Erra Ricca. La pratica numero 4, regolamento per l'applicazione della testa sui rifiuti, approvazione e modifiche. Quanto c'è? Pratica numero 7, scusate. Abbiamo deciso l'anticipazione della pratica numero 7. Permuta, terreni, tra alcuni Camaiore e il signor Ceragioli Franco, in località Montemagno. Autorizzazione della permuta e approvazione del schema contrattuale. Illustra la pratica all'assessore Pierucci. Allora, siamo nella zona di Montemagno, lungo la via del Leccio. Praticamente lungo questa strada è emerso che una parte della passeggiata al lato della strada, al lato sinistro della strada, andando verso l'alto, non è di proprietà del comune, ma bensì di proprietà di un privato. Chi ha presente quella zona praticamente è un filare di cipressi con una passeggiata lungo il corso della strada. Bene, c'è contattato il proprietario di questo piccolo pezzamento di terreno, rendendosi disponibile accedere gratuitamente a quest'area comune, in cambio praticamente di un ampliamento del suo accesso presso l'abitazione in via Carlo Magna. Quindi l'ufficio tecnico è andata sul posto, ha valutato un attimino che non ci fossero elementi negativi per questa concessione, è stato ritenuto che non ha nessun impatto su quella viabilità, ma pertanto ci siamo resti disponibili a permutare questo piccolo tratto di passeggiata lungo via del Leccio con la concessione di un allargamento davanti all'abitazione di questo signore. Essendo una pratica di tipo patrimoniale, chiaramente deve passare al Consiglio Comunale perché c'è l'acquisizione da parte dell'ente di questo pezzo di terreno. Ok, grazie. Assessore, c'è qualcuno che chiede la parola? Allora io non vedo nessuno, quindi possiamo andare alle repliche, a questo punto non ci sono perché nessuno è intervenuto. L'assessore credo che non debba aggiungere nulla. Il sindaco, se non chiede la parola, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono richieste? Se non ci sono richieste do la parola al segretario Fabrizio Del Dotto per la votazione, anche qui abbiamo il doppio voto perché abbiamo anche l'immediata esigurità della pratica. Prego, segretario. Sì, invito il sindaco Del Dotto Alessandro a esprimere il primo voto, sì. Favorevole, favorevole. Menchetti Jacopo. Favorevole, favorevole. Pedonese Federico. Favorevole, favorevole. D'Alessandro Gloria. Favorevole, favorevole. Maggi Fabrizio. Favorevole, favorevole. Benedetti Angelo. Anzi, vedo che è entrato Dalleluca e Graziano. Quindi prima c'è Dalleluca e Graziano. Dall'inizio, è già un po' che ci sono io, dall'inizio. Comunque favorevole, favorevole. Sì, ma alla chiamata alle 21.06 mi sembrava di non aver sentito la presenza. No, no, c'ero, c'ero, c'ero qui. Anche Rombi Nicola prima non l'ho sentito. È rientrato? Siete ragione, c'è una situazione che è molto molto. Rombi Nicola non c'è. Benedetti Angelo. Favorevole, favorevole. Gemignani e Patrizia. Favorevole, favorevole. Favorevole. Lemmetti e Leonora. Favorevole, favorevole. Lunardelli Marco rientrato? No. Favilla Andrea. Sissi. Giacomini Alberto. Astenuto, favorevole. Erra Riccardo. Favorevole, favorevole. Andrini Mario è rientrato? No. Matteucci Alberto è rientrato? No. E da Prato Nicola? Astenuto o favorevole? Sono stati tredici voti, di cui undici favorevoli, due astenuti, all'unanimità, in pratica, avuto l'immediata esecutività. Presidente, sono entrato anche io a undi. Ok. Quindi, lo ammettiamo alla votazione? Ormai abbiamo chiuso la votazione, la prossima. Bravo, l'altra votazione. Allora, chiudiamo con trentici votanti, unici favorevoli e due astenuti per questa pratica. Esatto. Quindi, la pratica è passata con undici voti a favore e due astenuti, mentre l'immediata esecuità della pratica sarà votata da tutti i consiglieri. Prima di andare alla pratica successiva, la pratica numero quattro, non so se i consiglieri si hanno aperto la propria e-mail, sono arrivate due mozioni in merito alla mozione sul deputatore di Lui Camaiore, una presentata dalla consigliera d'Alessandro e una presentata dal sottoscritto. Scusa, scusa, io non ce l'ho quella lì. Ce l'ho al punto. Abbiamo votato l'anticipo. No, 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 dicevo perché non so se tutti hanno aperto l'e-mail, comunico che sono arrivate due mozioni per la discussione del punto numero otto. Quindi, nel frattempo che ci sono le altre discussioni, le altre pratiche, se le volete leggere ci sono queste due mozioni. Passiamo al punto numero quattro. Regolamento sull'applicazione della tassa sui rifiuti, tali, approvazioni e modifiche. Lascio la parola all'assessore Macchi. Ma il punto quattro qual era? Il regolamento? Non mi sembrava. No, è l'approvazione del piano finanziario. Infatti, non mi tornava. Presidente, guardi un po' un attimo. Poi, se vedete, io c'ho il numero quattro qui. Allora, però, il punto numero... Ciclo di gestione dei rifiuti e approvazione del piano finanziario 2021. Prego, scusi, eh. Non prego l'assessore Macchi. La materia dei rifiuti è una materia in continua evoluzione. Questo, diciamo, è il secondo atto, è la seconda presa d'atto che andiamo a fare. Anche se, di fatto, l'anno scorso non era ancora con l'applicazione del metodo ARERA che è partita quest'anno. Il piano finanziario deve essere approvato insieme al bilancio. Ecco perché è slittato al 30 giugno, perché oggi, fra l'altro, credo sia in corso di approvazione una proroga al Consiglio dei Ministri. Ecco perché lo approviamo in questo periodo, perché il 30 giugno è l'ultima data utile per le amministrazioni che non hanno utilizzato come avanzo di amministrazione il finanziamento liquidità, perché loro hanno il differimento al 31 luglio. è l'ultimo giorno utile per approvare il piano finanziario, che è collegato poi con la pratica successiva, che sono le tariffe della Tari. Noi abbiamo approvato come giunta la proposta, insieme ad ERSU, che è la nostra società operativa locale, è stato redatto il piano finanziario e mandato all'ambito territoriale ottimale per l'approvazione. Quindi è ritornato validato dal lato e questa sera ne prendiamo atto. Dicevo che è stato redatto dal comune, insieme ad ERSU, che è stata confermata come società affidataria del servizio da parte di Reti Ambiente, perché dal primo di gennaio del 2021 il servizio di gestione integrata dei rifiuti è stato affidato dal lato Toscana Costa alla società Reti Ambiente, che è una partecipata pubblica di tutti i comuni. Reti Ambiente poi ha affidato a delle società operative locali, che sono le vecchie società della gestione dei rifiuti, il servizio nei vari comuni. A noi è stata assegnata, quale anche ultima assegnataria, la società ERSU SPA. Diciamo che è stato validato secondo il nuovo criterio MTR, metodo tariffario rifiuti. Già l'anno scorso abbiamo visto che è un po' complesso, ma con questo metodo si cerca di armonizzare il costo dei rifiuti tra i vari enti. Può darsi che un giorno, io dico speriamo di no, perché più si diventa grande, più è difficile gestirlo, dovrebbero arrivare ad una gestione di tutto il servizio da parte di Reti Ambiente. Al momento comunque è sempre affidato la proposta ai comuni e alle società di gestione. Quindi se date un'occhiatina siamo sulle stesse cifre dello scorso anno, la società Lato ha validato e quindi lo sottoponiamo all'approvazione. C'è stato anche un conguaglio a favore dell'ente di 16.882.000 euro del piano del 2020 che portiamo in diminuzione delle tariffe come vedremo successivamente. Quindi approviamo ora questa presa d'atto e dopo nella pratica successiva andiamo ad approvare le tariffe. Il costo comunque è determinato con questa validazione che è il costo che poi ritroviamo dedotte le partite a credito dell'amministrazione che poi ritroviamo pari pari nella variazione di bilancio che abbiamo fatto e che sarà la base per la formulazione delle tariffe che andiamo ad applicare ai nostri cittadini e che vediamo e che vediamo dopo. Io mi fermo. Grazie Assessore. Passiamo alla discussione. Qualcuno che chiede la parola? Se nessuno chiede la parola consiglierei a Erra. Nel frattempo è contentato il consigliere Micheli. Prego. Sì. Mi sentite? La sentiamo, la sentiamo. Sì, sì. Allora, diciamo, questo qui dovrebbe essere... sarebbe l'anno, diciamo, del debutto di questo nuovo metodo tariffario che è costruito praticamente dalla Rera senza che nessuno possa mettere mano e modifica questo nuovo metodo e modifica questo nuovo metodo drasticamente l'articolazione del costo tariffario fra costi fissi e costi variabili. e questo qui diciamo che c'è un contenzioso in corso anche con il Ministero della Transizione Ecologica perché avrebbe deciso l'esenzione dei magazzini, delle imprese dal costo e ovviamente le amministrazioni locali contestano queste interpretazioni e vanno avanti. Ora, io dico, questo nuovo... questo nuovo... come si chiama? Aspetta, mi vado a legge... questo nuovo... eh, questo piano finanziario, praticamente... MTR. eh, bravo, MTR. questo MTR. quindi, eh... e quindi escludendo questi magazzini ci sarebbe... metterebbe in disc... ci sarebbe la distribuzione dei pesi fra le varie utenze per la copertura dopo integrale di questo... dei costi di questo intero servizio. ora, io dico... sapete che noi abbiamo sempre contestato questo Arera perché abbiamo sempre detto che Arera, eh, allontana, praticamente, eh, le decisioni dal territorio. questo gigantismo, deco io, vedi anche le asle di questi enti, come usate, non fa altro che allontanare le decisioni, eh, dal territorio. eh, noi, ad esempio, siamo per... non siamo per questi ato così grandi, ma saremmo operato per, eh, un discorso... tornare a livello provinciale, in che senso? che la raccolta, lo spazzamento, eh, l'acquisto dei bidoni dovrebbero essere gestiti, secondo noi, a livello comunale. mentre il trattamento e lo smaltimento, eh, andrebbe fatto a livello provinciale. non, 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 non sarebbe, non è bello andare oltre perché, come ho già detto, questo gigantismo, gigantismo, in queste amministrazioni pubbliche, allontanano le decisioni dal territorio. e poi calano dall'alto queste, queste tariffe, questi costi del servizio, senza che i comuni possano mettere mano. Tant'è che questo, questo piano, questo, questo piano finanziario, evidenzia, praticamente, un costo superiore rispetto a quello dell'anno scorso, per i cittadini, dell'un per cento circa, perché passa da 10 milioni e 140 mila euro, a 10 milioni e 246 mila euro. Quindi, praticamente, viene meno anche tutto quello che abbiamo fatto per cercare di diminuire il costo del servizio. C'è da dire un'altra cosa, che lo Stato, in questo periodo, ha distribuito, in questo periodo, ha distribuito, cioè distribuirà un fondo, mi sembra, di circa 600 milioni, che serviranno per fare degli sconti alle utenze non domestiche, colpite dalle famose restrizioni Covid, nella prima parte di questo anno. E qui, dopo, volevo chiedere se a queste qui i comuni, il comune nostro, ha aggiunto, perché si possano aggiungere ulteriori risorse finanziarie, attingendo dal famoso fondone che diceva prima Marco. E niente, ho visto che niente, via, in questo momento qui mi limito a dire che non ci sono in questo piano finanziario tutte le aspettative che si erano previste di riduzione, tant'è, o perlomeno, andranno ad impattare, a diminuire qualcosina, poi dopo lo vedremo nelle tariffe, ma poca cosa. Quindi per il momento mi fermo qui. grazie. Grazie consigliere Erra. Io non avrei altri consiglieri che mi chiedano la parola. Bene, non ho nessun altro. Allora passiamo alle repliche, che non ci dovrebbero essere. quindi vi do la parola all'assessore. No, solo per dire che l'aumento dello 0,97%, circa 100.000 euro, mi diceva l'assessore Pescaglini, è dato anche dall'aumento di alcuni servizi che siamo andati a applicare sul territorio. poi dopo parleremo nella pratica successiva invece delle tariffe. Bene, il sindaco non mi ha chiesto la parola, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Pellanese? Sì, per dichiarazione di voto favorevole del gruppo misto. Tenta dire Italia Viva e Camaiore e Suoi Volvi, così almeno Riccardo è contento. Comunque l'ha detto lo stesso. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Bene, io non vedo nessun altro. Quindi consigliere Erra in dissenso dal gruppo misto. Prego. Sì, niente, volevo fare la dichiarazione di voto aggiungendo che insomma poche cose ma nel senso che questo piano finanziario all'interno del piano finanziario troviamo parecchi costi che sono circa un milione e quasi 600 mila euro che non dipendono direttamente dal costo del servizio di raccolta dell'attività di spazzamento di lavaggio e di raccolta ma sono costi generali costi di gestione questi incidono per un milione di euro per quanto riguarda il gestore del cambiamento e quindi lo trovo francamente esagerato che su 10 milioni 246 mila euro ci siano quasi un milione e 600 mila euro di costi generali pertanto anche alla luce di questo perché questo piano tariffario questo piano non sono quella cifra scusi ricale consigliare indicazione voti di assessore non posso imparlare quindi prego consigliare eh no ci sono perché se vedete nel piano finanziario ma anche ci sono queste voci c'erò qui il gestore 2 cammaiore 569 mila euro e costi generali di gestione del gestore dei cambiamenti un milione 014 se fai la somma di tutto doveva spendere 10 milioni 246 che è il costo del nuovo servizio che cresce dello 0,97% anche in funzione di quei servizi che diceva la Sara prima quindi non ci vedo da questa raccolta una generazione di valore per cui una raccolta differenziata vada fatta perché porti anche valore nelle casse dei singoli comuni e pertanto la mia dichiarazione di voto è contraria a questa pratica ma io farò una dichiarazione di voto molto veloce anch'io considero questi enti ora questi enti che sono avviati da poco è un caruzzone Arera anch'io spero che si ritorni sempre di più a localizzare i servizi ad un ambito molto ristretto io l'ho già detto quando si presentò all'epoca la formazione di questo ente io sfido Chiunca a leggere i parametri di come si deve classificare a qualcuno capisce qualcosa parametro x da 0,1 e 0,5 valore 0,1 parametro 0,1 0,5 valore 0,4 e quelle da 0,1 alla 0 a 2 valore 0 poi c'è dei numeri greci delle lettere greche che non conosco meno 35 cioè è tutto così io vorrei capire perché le delibere a livello nazionale a livello regionale non siano chiare dove chiunque lo possa capire perché deve essere fatto questo in arabo in lettere greche in greco antico non lo so forse per non far capire nulla a nessuno neanche noi che votiamo purtroppo ci siamo questa è la cosa siamo in questa in questa situazione e poi quel che conta alla fine è il succo della pratica e il mio voto sarà favorevole ma considerando il fatto che mi viene cioè non ho più voglia per le cose chiare semplici e invece dalla regione dal nazionale ci impongono certe cose che sono davvero inconcepibili dove non ci si capisce veramente nulla e per me è questo l'intento non fa capire nulla né ai rappresentanti del popolo e tanto meno ai cittadini sindaco chiaro prima io c'era prima il consigliere Micheli consigliere Micheli grazie signor sindaco e che è sempre più attento del presidente il no io nell'esprimere subito la mia dichiarazione di voto contraria alla pratica volevo però far notare una cosa io gradirei che le persone che partecipano al consiglio comunale siano ancora una volta lo chiedo visibili perché per esempio in questo momento se si volesse solo quelle che vedo non ci sarebbe la maggioranza se noi ci alziamo e ce ne andiamo quindi siccome non mi sembra neanche giusto però sono anche stufo di dirlo tutte le volte cioè o si è visibili o se no se non si è visibili vuol dire che non si è in quel momento presenti secondo me chieda il numero legale consigliere Micheli è l'utile che chieda il numero legale se poi dopo mi risponde che so Fabrizio Di Giusto oppure Gabriele no nel momento quando tu chiede il numero legale si stop si fa la votazione se no uno è il libro di entrare e di uscire e chi è cos'è è colui che si vede scusa se mi interrompo anch'io avevi detto a sto tempo che la persona doveva essere visibile per me sono presenti se uno mi chiede il numero legale il numero legale ragione te ci siamo è questione di rispetto degli altri chi non fa vedere il vittorio e non è presente punto prego consigliere Micheli ho finito avevo già fatto la dichiarazione di voto contraria alla pratica grazie sindaco allora io intanto per esprimere ovviamente il voto favorevole alla pratica e anche per sottolineare una cosa che in questo piano finanziario io l'ho detto anche come dire in contesti ufficiali questo piano finanziario è il primo piano finanziario in cui si ha una diminuzione dell'importo che va a riparte in tariffa e quindi un piano finanziario che tra l'altro con un contributo alto di 560 mila euro porta ad abbattimento una parte della della Tari quindi come dire una parte tra l'altro del contributo alto e che porta chiaramente anche diciamo così in un periodo come questo si porta dietro una rimodulazione tariffare come poi vedremo dopo che consente di offrire alle attività alle famiglie una serie di agevolazioni e anche di riduzioni io sono d'accordo col presidente del consiglio comunale sul fatto che queste pratiche hanno un livello di tecnicismo davvero incredibile cioè richiedono delle competenze tecniche che è difficilissimo tracciare questo lo dico perché come dire da un punto di vista politico capisco la sofferenza del presidente del consiglio comunale perché se uno studia all'università forse dico e sottolineo forse si capisce e questo però ovviamente è come dire una un'amarezza che ci lascia un panorama normativo nazionale che tra l'altro non viene nemmeno da oggi ma viene oltretutto da lontano una visione di aziendalizzazione delle funzioni dei servizi pubblici che appartiene alle visioni delle privatizzazioni alle visioni di ritrazione dello Stato meno Stato meno tasse ricorderete un po' queste cose ecco questa è una amarezza che mi permetto di dire visto l'intervento del presidente consigliunale che condivido tant'è però che questa è la situazione in cui ci troviamo quindi della pratica che leggete dove ci sono un sacco di coefficienti però il risultato di questo piano finanziario che va ad approvazione ovviamente qual è il punto il punto è che c'è una diminuzione complessiva del costo e ovviamente c'è anche e questo è un aspetto interessante un aumento dei servizi e questo è un aspetto come dicevo per l'appunto da sottolineare perché è esattamente quel tipo di tendenza su cui abbiamo lavorato imboccando la strada di una nuova gestione del ciclo dei rifiuti e di questo ovviamente devo dar merito non solo al lavoro del consiglio comunale non solo al lavoro dell'assessore Pescaglieri non solo al lavoro dell'ufficio ma insomma a una strategia corale che ha portato a un risultato che lascia tra l'altro in prospettiva aperte dei risultati ulteriori su questo fronte è l'inizio come sarà detto a regime dopo due anni e in effetti siamo una speranza del diagno di gestione inizia a regime a produrre i primi frutti si tratta adesso di controllare stare dietro al servizio di continuare a sensibilizzare i cittadini anche a compiere esattamente la raccolta differenziale e completare tra l'altro il circuito della raccolta rifiuti con i centri di raccolta di cui abbiamo spesso parlato e poi in visione ovviamente di portare a caso il risultato che sia qualitativo che economico ribadisco quindi il mio voto favorevole alla pratica grazie presidente grazie sindaco io non avrei altri che hanno chiesto la parola quindi dare la parola al segretario anche qui abbiamo il doppio voto per l'appello sì iniziamo del dottor alessandro favorevole favorevole menchetti jacopo favorevole favorevole fedonese federico favorevole favorevole da alessandro gloria favorevole favorevole maggio fabrizio favorevole favorevole dalle luca graziano favorevole favorevole rombinicola non c'è rombinicola benedetti angelo favorevole favorevole gemigliani patrizia favorevole favorevole lemmetti e leonora favorevole favorevole lunardelli marco favorevole favorevole favilla andrea sì sì jacomini alberto contrario favorevole edna riccardo contrario favorevole micheli riccardo contrario favorevole e da prato niccolò contrario favorevole i votanti sono stati 15 i voti favorevoli 11 e i contrari 4 l'invitare esecutività è una unità quindi la patica è passata ma memma non mi hai chiamato andrei mario pronto mario scusi consigliere mario andrei non la vediamo andrea perché non mi hai chiamato me consigliere consigliere andrei noi non la vediamo nello schermo io non sono stato chiamato scusate sì ma non lei consigliere andrei non la vediamo accendete la camera ma come io mi vedo ora la vediamo anche noi ora è perfetto bene prego consigliere andrei accesa abbiamo finito la vediamo è favorevole favorevole quindi ho capito ma se a me non mi prendeva la linea o o fa valessa se non è un'ora che sono qui che chiamo e non mi prende la linea ma ma ha preso ora eh vabbè aggiorniamo con 16 io voglio notare la pratica va bene io voglio io voglio sapere perché non posso votare la pratica no ma infatti nessuno ha detto che non può votare la pratica abbiamo detto che devi accendere la telecamera ma da bene vi ascolta la te forse tu non capisci io sto in una zona a volte la linea prende e a volte non prende no io ho avuto ho avuto qui dal consigliere Andreini alle 21 e 25 nel mio cellulare che lui era presente in consiglio ce l'ho qui eh però non si vedeva ecco e quindi sento nulla io non sento niente Mario te mi hai comunicato a me che ripresenta le 21 e 25 però non ti si vedeva e quindi io ho la prova che te ripresente in consiglio perché mi hai anche mandato una chat mi dicevi che hai entrato però mi dice a me il segretario non ti aveva visto perché c'è la telecamera spenta per no per lui non eri presente ma in realtà c'eri hai acceso la telecamera ti abbiamo visto e hai votato va bene quindi aggiorniamo l'esito 12 favorevoli e 4 contrari telecamera spenta io la telecamera prende fine però consigliare Andrini deve venire in consiglio allora lo so che è una sconciatura ma qui abbiamo due o tre postazioni bisogna vederla però la vediamo ora la vediamo quindi i voti sono stati 12 favorevoli e 4 contrari e allora la prossima la prossima volta avrei un consiglio perché allora la prossima volta si dovrebbe fare in presenza il consiglio comunale quindi il problema si dovrebbe risolvere perché siamo tornati a zona bianca per fortuna quando non c'è la linea ascolta quando non c'è la linea non sento non vedo non mi vedete non c'è la linea non c'è non capisco però qui il segretario deve verbalizzare un voto quindi la deve vedere ho anche mandato un messaggio e ho mandato e ho mandato un messaggio a Federico il consiglio comunale ho detto che lei ha mandato un messaggio bene andiamo avanti 12 voti a favore 4 contrari invece la pratica è stata votata all'unanimità per quanto riguarda l'immediata eseguita presidente semplicemente per giustificare Mario che mi aveva mandato un messaggio dicendomi che aveva dei problemi sulla connessione volevo dire questo comunque è risolto Mario stai tranquillo andiamo avanti punto numero 5 approvazione delle tariffe sui rifiuti per l'anno 2021 e delle riduzioni covid per le utenze non domestiche illustra la pratica l'assessore Marchi sì grazie presidente ecco qui saremo un po' più precisi prima abbiamo approvato il piano finanziario abbiamo preso atto della validazione da parte del lato del nostro piano finanziario sulla base di questo andiamo a fare le tariffe e finalmente iniziamo a vedere i frutti della raccolta differenziata che guardiamo dal precedente documento eravamo nel 2018 al 44 e 29 nel 2019 con soli tre mesi di raccolta differenziata era il 30 settembre quindi ottobre novembre dicembre siamo passati al 54 e 15 per cento 2020 78 per cento chiamato stamane l'ufficio per avere il dato perché parte in questo modo tanto per ringraziare l'assessore Pescalini che più di ogni altro si è speso su questo ma soprattutto perché ora andiamo a monetizzare anche questo lavoro perché perché partendo con la raccolta differenziata su tutto il territorio lato ci ha concesso un contributo finalizzato all'abbattimento delle tariffe di circa un milione di euro con questo contributo già da quest'anno andremo ad abbattere la tariffa perché dal costo che abbiamo prima visto andiamo a togliere il contributo applicato che quest'anno è 560 mila euro più altre piccole cose di fatto andiamo ad abbattere la tariffa mediamente del 5 5 e mezzo per cento dico mediamente perché perché con il nuovo calcolo delle tariffe rara non è omogeneo su tutte le tariffe domestiche non domestiche sulle non domestiche sì sulle domestiche essendo variato il calcolo cambia un pochino però di fatto mediamente troveremo quest'anno un avviso di pagamento tari diminuito di circa il 5 5 e mezzo per cento e questo è il frutto del lavoro che abbiamo fatto sulla raccolta differenziata che quindi non soltanto dal punto di vista ambientale e questo è l'obiettivo principale ma anche dal punto di vista economico comincerà a dare i frutti i nostri cittadini grazie a questa tipologia di raccolta pagheranno un po' meno negli avvisi che andremo a inviare come vi ricordate potevamo inviarli anche precedentemente in modo diciamo provvisorio in attesa del calcolo abbiamo sospeso tutto causa a covid quindi arriveranno a partire dal mese di settembre poi li dilazioneremo come sempre almeno tre pagamenti da diluire nel corso dell'anno però a partire da settembre quindi questa riduzione sarà mediamente su tutti i su tutti i contribuenti un'altra cosa che tengo a sottolineare questo è più dal punto di vista finanziario con questo abbattimento se andate a vedere dal 2013 al 2021 non ci sono di fatti aumenti anzi avremo una leggera diminuzione di quanto pagavamo e questo è frutto di un controllo che questa amministrazione che non è avvenuto in amministrazioni precedenti ha dato a questo settore poi fino a che possiamo controllarlo noi è ben chiaro quando non potremo più se sarà così io spero di no l'ho già detto prima spero che rimanga una gestione comprensoriale ma che siano i singoli comuni insieme ai loro gestori a definire le tariffe ripeto però se andiamo a vedere 2013 2021 abbiamo mediamente una diminuzione delle tariffe dice un caso per quest'anno che è importante raccolta differenziata ma fateci caso negli ultimi anni è stato sempre costante non soltanto il costo ma siamo riusciti a migliorare il servizio pensate a tutti i cassonetti non sempre profumati o puliti che avevamo sul territorio in questo modo ha giovato all'ambiente e ha giovato alle nostre tasche questo mi sembrava importante perché sono andato a rivedere un po' i costi e la stabilità che ha dato questa amministrazione oltre ad un miglioramento del servizio che come diceva il sindaco deve ancora perfezionarsi ma già si vede sul territorio avrà a partire da quest'anno anche il contributo che permette di abbassare l'avviso insieme a questo abbiamo messo così faremo partire gli avvisi già ridotti di tutto anche le agevolazioni che anche quest'anno quest'anno diciamo ha ben settorizzato lo Stato dovrebbero essere definite in questi giorni comunque da ANCI ci fanno sapere che dovrebbero essere 680 mila euro il contributo che dovrà pervenire al comune per venire incontro alle aziende quindi si parla di non domestiche con la variazione di bilancio di prima abbiamo finanziato invece le agevolazioni che andremo a fare alle utenze domestiche con queste riduzioni covid andremo ad agevolare le utenze non domestiche e come abbiamo fatto l'anno scorso per evitare in questo periodo di gravare su questa misura poi se ne faremo altre saranno più finalizzate come dicevamo prima con il consigliere Lunardelli con questa misura andremo abbiamo cercato di applicare delle riduzioni consone alle difficoltà che le aziende hanno subito in questo periodo proprio mettendo diciamo a frutto il finanziamento che dovrà arrivare dallo Stato vogliamo inviare quindi gli avvisi di pagamento decurtati della diminuzione per effetto della raccolta differenziata del 5% che andrà mediamento detto su tutti più per le aziende non domestiche vogliamo applicare come abbiamo fatto l'anno scorso una riduzione per settori riducendo in che in che modo abbiamo definito quattro anche se l'ultima intervenendo sulla parte variabile della tariffa quattro riduzioni due un po' più semplice nel senso alle aziende che hanno un'attività stagionali andremo ad incidere sul 13% della parte variabile soltanto diciamo due tre utenze avranno il 100% della parte variabile che sono ad esempio che sono ancora di fatto chiuse le discoteche e il cinema che hanno aria aperto ma con una capienza ridotta di moltissimo quindi l'interveremo il 100% della parte variabile in più andremo ad applicare un 75% su quelle attività tipo bar alberghi ristoranti alberghi con attività annuale bar alberghi ristoranti trovate nell'allegato che hanno avuto abbiamo fatto un calco diciamo così cercando di colpire di far fruire direttamente a quelli che sono stati maggiormente chiusi un 75% questa tipologia di attività in più tutti gli altri negozi che non sono naturalmente farmacie alimentari chi è sempre di fatto stato aperto interverremo con una riduzione del 40% e questo noi l'abbiamo già fatto l'anno scorso con fondi propri che poi lo Stato ci dovrebbe ristorare quindi penso che possiamo prendere nel corso dell'anno su questa materia anche qualche altro provvedimento che sarà più finalizzato in questo caso interveniamo con il finanziamento di quest'anno in modo diretto su quelle categorie che hanno subito dei danni e che non sono come dicevo farmacie genere alimentari supermercati che sono stati aperti differenziando per categorie e periodi di inattività di chiusura o di minor lavoro e contiamo di poter fare tutto nel prossimo avviso e ripeto è importante perché per la prima volta diciamo andiamo ad abbassare sensibilmente grazie soprattutto al contributo ato al recupero dell'evasione l'avviso la tariffa a tutti i contribuenti anche in base al calcolo Arera in più se lo rivediamo nel corso degli anni siamo riusciti a non aumentare la tariffa andando a svolgere il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio mentre fino a pochi anni fa aumentare il servizio in tal senso avrebbe avuto un costo molto elevato quindi ritengo per questa amministrazione sia un risultato importante che ripeto non solo dal punto di vista ambientale che è il primo ma anche dal punto di vista economico in quest'anno andremo a monetizzare grazie a questo anche una riduzione generalizzata grazie Assessore Mecchi ho chiesto subito la parola per chiarimento quindi dopo le dichiarazioni dopo gli interventi chiedo appunto un chiarimento all'assessore Mecchi il mio chiarimento su due o tre cose ovvero io dove deduco che gli alberghi il 75% è per gli alberghi annuali e non anche per gli alberghi stagionali da dove lo posso dedurre poi si parla di una riduzione del 75% degli uffici e vorrei capire se per gli uffici si intendono anche gli uffici degli avvocati gli uffici dei commercialisti gli uffici in generale perché poi quando si parla di uffici gli uffici pagano già poco di spazzatura perché sono ambienti già molto piccoli e l'altra cosa che mi interessava capire se anche per le rosticerie abbiamo un 75% di riduzione visto che le rosticerie sono sempre state aperte e qui mi sembra di capire che c'è scritto la ristorante trattorie pizzerie e rosticerie hanno un 75% di riduzione vorrei capire se i primi se le rosticerie sono sempre state aperte e si sono sempre state aperte perché abbiamo deciso di dargli la riduzione da 5% perché ritengo che probabilmente quell'attività lì quando c'è stato il lockdown essendo aperte hanno anche lavorato però non ho dati certi ma chiedo appunto poi all'assessore all'assessore Macchi questi questi tipi di chiedimento ci sono altri che chiedono la parola beh se non ci abbiamo nessun altro allora considera R sì io quello che dice Marco da 2013 a ora che la tariffa minore quest'anno non è assolutamente vero perché nel 2013 se voi altri prendete una famiglia con tre persone una casa di 80 metri quadri il costo annuale del servizio ammontava 320 euro alla tariffa quest'anno è a 327 euro quindi più o meno ci stiamo riavvicinando a quello che si pagava con la precedente amministrazione di centro-destra vale a dire voi nel corso degli anni l'avete portata da 320 o 312 a 347 342 345 forse è l'anno migliore dei vostri ma non è ancora a livello di quello che si pagava prima perché si pagava ancora meno e c'ero qui ad esempio se Marco forse è preso è fatto dei conti sbagliati e ti sfido perché ho le tariffe che ho fatto puntualmente dal 2013 al 2021 tanto per chiarimento poi ti dico una cosa ma non è che quest'anno cioè una famiglia di questi rispetto al 2019 che le tariffe 2020 erano le stesse il risparmio a 13 euro l'anno non è che qui si parla di cifre per una famiglia di cifre così importanti il risparmio è di un euro al mese con tutto quello che ecco cioè io mi aspettavo che questa che questo cambiamento che io per l'amor di Dio sotto certi aspetti il servizio è migliorato sotto altri no sull'aspetto del verde no perché prima il verde lo ritiravano a casa ora no bisogna portarlo nei centri di raccolta quindi però sostanzialmente essendo passati da un 49% di raccolta differenziata ad un 78% come hai detto te Marco sicuramente il servizio è migliorato è migliorato anche da un punto di vista di igiene ambientale io ci sono contento però non mi trovi d'accordo quando ti dici che quest'anno viene a costare anche meno rispetto al 2013 dici in esattezza perché nel 2013 se tu vai a vedere costava 320 euro l'anno con una casa di 80 metri quadri con tre persone 320 euro quindi e voi nel corso degli anni l'avete continuamente cresciuto c'è anche da dire una cosa che qui in questo nuovo sistema ci sono tanti servizi che il cittadino si pagherà e quelle aziende pagheranno mentre noi una volta con SEA io lo parlo per la nostra azienda si riempiva il cassone e veniva SEA e te lo ritirava ora ogni qualvolta si fa un cassone un cassone e mezzo ci costa da 3500 a 4000 euro quindi non è così non è così vero che è migliorato soprattutto i punti di vista quindi andiamoci caoli speriamo che migliori ulteriormente però più che altro ci stiamo riallineando a quello che il servizio costava quando non c'eravate voi altri voi altri l'avete fatto crescere in questi anni a dismisura nel nuovo con la nuova gestione avete tolto dei servizi che prima venivano fatti e ora non vengono più fatti auguriamoci che continuano nel nuovo nel futuro anche questi servizi vengano reinseriti all'interno del costo e quindi i cittadini beneficino anche di questo di questo servizio quindi cioè allora voglio aggiungere una cosa che mi sfugge ah per quanto riguarda le tariffe sì le tariffe c'è stata una certa riduzione nella parte variabile per quanto riguarda le attività però non domestiche per quanto riguarda le attività c'è una piccola riduzione nella parte variabile della tariffa però non capisco perché a chi ha organizzato eventi o attività simili si diminuisca solo del 75% ma doveva essere fatto integralmente visto che è stato un settore colpito molto da questo da questo covid da questo lockdown come non capisco perché ai negozi si riduca solo del 40% all'abbigliamento calzature che anche anche a livello di governo per il test dell'abbigliamento hanno previsto un maggior periodo di cassa integrazione visto la crisi che hanno quindi lì andava il negozio di abbigliamento e di calzature andavano esentati completamente ma io dico queste attività lì la tariffe non la dovevano pagare questo è un piccolo è un contentino perché se si voleva veramente andare incontro alle esigenze delle attività che hanno pagato anche non lavorando bisognava completamente azzerarli dalla parte variante e trovare i soldi riducendo una spesa una spesa corrente destinare questi soldi alla tariffa su queste aziende io la vedo in questa maniera quindi c'è stato un piccolo sforzo è stato fatto per l'amor di Dio è sempre meglio che niente però io avrei fatto uno sforzo un pochettino più importante per andare incontro a queste categorie economiche che sono state veramente danneggiate da questo lockdown e ne hanno risentito e non è ancora nulla vedrete alla fine del 2021 cosa saranno costretti a fare tante attività auguriamoci di no ma io la vedo così quindi questi costi di struttura che le società sostengono in questa fase andavano andavano gli andava data una mano per cercare di ridurre questi costi basta mi fermo qui grazie ci sono altri consiglieri che chiedono la parola bene allora diamo la parola all'assessore Mecchi consigliere Menchetti presidente grazie allora non sono intervenuto sulla pratica precedente in questo consiglio abbiamo diverse questioni che toccano il tema dell'organizzazione del servizio del servizio dei rifiuti e le considerazioni che sono state fatte sulla precedente in gran parte sono già tra l'altro anche acquisizioni che questo consiglio comunale ha potuto registrare acquisizioni trasversali cioè la complessità del sistema i dubbi e le incertezze sui livelli di gestione insomma tutta una serie di perplessità che condividiamo di cui ci facciamo portatori di cui come dire siamo anche disattesi molto spesso cerchiamo attraverso le nostre collocazioni politiche mi auguro che tutti lo si cerchi di fare di attivare delle iniziative politiche che abbiano lo scopo di riconsiderare certi assetti ora però sulla pratica in questione che affronta più da vicino invece il tema con cui lo organizziamo noi il servizio al momento del fatto che collegato al servizio c'è una tariffa e quindi un'imposizione nei confronti dei cittadini per la prestazione che il comune svolge nella raccolta dei rifiuti ecco su questo io noto con molto dispiacere il fatto che una scelta importante strategica di programma dal 2012 di questa amministrazione all'atto pratico cioè una volta realizzata non sia diventata l'acquisizione da parte di tutta la rappresentanza del consiglio comunale perché è fuori di dubbio che il passaggio di gestione che abbiamo fatto qualche tempo fa e il fatto che proprio nel 2020 un'annata così particolare si sia registrato per il primo anno siamo andati a regime cioè col sistema della raccolta differenziata ci dice al di là di ogni ragionevole dubbio che noi non avevamo che questo è un punto di non ritorno ma lo è per tutti lo è per tutti lo è per la gran parte della cittadinanza da quasi totalità che ne ha guadagnato in termini di efficienza del servizio in termini di di pulizia degli ambienti in termini di qualità in termini di qualità qualità ambientale dopodiché è chiaro che è un servizio che paghiamo lo sappiamo tutti è un servizio che ci siamo sforzati anche col precedente gestore di farlo pagare un po' meno ci siamo sforzati col precedente gestore se non si poteva far pagare un po' meno di dare servizi uguali a tutti ma questo non c'era concesso abbiamo dovuto fare una battaglia importante impegnativa rischiosa che ha risposto il comune e i suoi amministratori soprattutto la parte esecutiva a delle responsabilità gravose ripagate alla fine però con un servizio di un'efficienza e di una qualità che nessuno discute nessuno e mi fa un po' impressione che se ne discuta ancora di questo un consiglio comunale perché è sotto gli occhi di tutti questo è evidente che l'organizzazione del servizio passano anche delle scelte passano delle scelte di equità però nel nostro caso scelte per le quali ci si avvicina sempre di più a un modello che nonostante le compensazioni e le correzioni si avvicina sempre di più a un cittadino che produce un certo tipo di rifiuto che ha un certo tipo di costo per essere smaltito e che dunque torna al cittadino in termini di tariffa che gli viene richiesta ecco questo modello è quello che andiamo ricercando è un modello che è praticabile con il tipo di servizio che abbiamo attivato non certo con la precedente gestione e questi sono dati di fatto su cui interviene poi una politica delle tariffe che concordiamo a tutti che ci preoccupa in prospettiva perché quella politica delle tariffe lì che vuol dire anche sostegni a chi è più in difficoltà in termini di iniziativa economica ma anche di contingenza familiare quella politica lì siamo sempre meno in grado di controllarla la Rera ci dice questo ci dice che la composizione delle tariffe è la somma di una serie di fattori è vero o no consigliere Rera ma è la somma di una serie di fattori quei fattori lì quegli addenti lì non li controlliamo poi così tanto e non è che lo vogliamo noi non è che lo vogliamo noi noi cerchiamo di proporre delle soluzioni alternative attraverso un'iniziativa politica questo cerchiamo di fare i margini che ci restano per la possibilità di scegliere da che parte stare cioè chi poter sostenere quali dispositivi e quali correttivi possiamo attuare per fare in modo che la tariffa sia una misura di equità nei confronti dell'ambiente ma anche di prossimità nei confronti dei cittadini di coloro i quali sono stati più in difficoltà è chiaro che quest'anno assuma una veste particolare siamo d'accordo l'assume anche nell'azione delle scelte che sono state fatte che in un comune come il nostro che non è un comune omogeneo anche dal punto di vista economico produttivo devono tenere conto di una serie di fattori che sono la stagionalità di certe attività sono il tipo di settore economico in cui si opera una serie di fattori di indicatori per cui la copenta la si cerca di farla tornare non abbiamo neanche noi la macchetta magica però abbiamo qualche indicatore che ci dice chiaramente che in alcuni momenti va scelto qualcuno e non qualcun altro scelte che non sono semplici sono impegnati per sé ecco io credo che questa pratica ci dica questo ci dica in sostanza che nessuno qui dentro dovrebbe essere nostalgico di una precedente gestione perché o si è avvalso del servizio da un'altra parte e allora non se ne è accorto oppure se no non ci sono condizioni per potersi dichiarare nostalgici va fatto di più e meglio sul piano della tariffa bisogna cercare di ridurre i costi senza altro sì ma abbiamo fatto un investimento che ci ha consentito di portare il servizio porta a porta su tutto il territorio già al primo quadrimestre del 2019 poi nel 2020 che è stato il primo anno di gestione senza aumentare la tariffa e senza bisogno degli aiuti noi dobbiamo aumentare con gli aiuti abbiamo avuto la possibilità anche di essere un po' più vicini a chi è stata in difficoltà e magari ci potremo anche tornare sopra come diceva l'assessore io credo che ci siano motivazioni sufficienti davvero per rendere ormai con acquisizione comune in tutto il Consiglio Comunale le politiche ambientali di questa amministrazione e credo che le varie come quelle di stasera ci spingano semmai a fare un'altra considerazione una considerazione che è quella che ci deve vedere distante in alcune scelte che facciamo rispetto alla prossimità in termini di tariffa che vogliamo esercitare nei confronti dei cittadini crediamo che quella proposta dall'allunta sia una scelta che meriti di essere considerata e che meriti il nostro appoggio approvando così le tariffe per quest'anno grazie consigliere Menchetti io non avrei nessun altro quindi do la parola all'assessore Mecchi per le repliche e le mie richieste grazie non entro al consigliere Erra soprattutto non mi faccia polemizzare con la gestione del centro-destra lei sa benissimo scusi assessore Mecchi lei deve parlare il consigliere Erra non ha chiesto chiarimenti ho chiesto chiarimenti quindi lei quando farà le repliche finali risponderà al consigliere per quanto riguarda quanto chiedeva il presidente in delibera è ben chiaro che tutte le attività stagionali hanno una riduzione del 13% precisato inoltre è che per le utenze non domestiche a carattere stagionale per le quali è previsto una percentuale di riduzione della tabella legato CID qui sopra sarà applicata esclusivamente una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 13% quindi questo è chiaro lo stesso anche gli uffici già l'altra volta non li abbiamo messi nelle riduzioni e c'è soltanto per uffici e agenzie soltanto se trattasi di agenzie di viaggio quanto riguarda le rosticcerie io credo a questo punto che siano paragonati ai ristoranti bar trattorie quindi beneficeranno della riduzione quello è importante però è appunto che è chiaro che il 13% va alle attività stagionali e dalla delivery lo può vedere chiaro lo stesso anche degli uffici se si ricorda anche l'altra volta nella riduzione che abbiamo fatto lo scorso anno le abbiamo esclusi da tutte le riduzioni e solo le agenzie di viaggio che sono anche quelle molto penalizzate che sono stati chiusi a parte che sono pochissimi nel territorio però è stata c'è stata fatta un'eccezione soltanto per quelle passiamo alle repliche ma non abbiamo repliche quindi passiamo di nuovo la parola all'assessore che ora può rispondere al consigliere Erra se ritiene opportuno sì brevemente senza polemica lo sa il consigliere Erra però dicevo non citiamo la precedente amministrazione di centro-destra è che io ero in consiglio comunale e per quanto riguarda ciò per quanto riguarda il video e questa era la materia che seguivo direttamente e ho lasciato anche nella documentazione scritta soltanto dal 2003 al 2009 la tariffa per l'utenza e domestri che è completamente raddoppiata quindi perché dicevo che è un successo cioè guarda queste sono cose scritte che ho sempre mantenuto io sono uno che usa archiviare tanta documentazione per quello che dicevo che c'è stato un certo mantenimento pur aumentando i servizi abbiamo cercato e la raccolta differenziata perché la vecchia amministrazione dice non è andata oltre tanto perché ogni volta che le ampliava aumentava troppo il costo quindi giustamente anche loro hanno detto perché devo far gravare sui cittadini non essendoci un piano ben preciso come è stato fatto questa volta aumentava tutte le volte e quindi si è fermata ad un certo punto proprio per non gravare troppo già essendoci stati gli aumenti degli anni precedenti quindi confermo quello che ha detto nel 2013 se va a vedere mi sembra la stavo guardando di cercarla c'era un'addizionale è quella che non ti ho mandato una foto sì ma lo guardo ma lo guardate anche io grazie per favore non fate quando parlo generalmente mi preparo ho guardato la mia e se la guarda quattro persone e c'è una leggera diminuzione poi non è costante di tutti come non lo sarà quest'anno quest'anno con le nuove tariffe magari chi pagava già poco perché magari una casa piccola e una sola persona avrà anche l'aumento di un euro chi ha una cassa grande con 5-6 persone avrà una diminuzione del 7-8% però mediamente siamo sul 5% e questo ritengo un successo per tutta l'amministrazione bene il sindaco non mi ha chiesto la parola quindi passerei sì invece sì scusa presidente ma era allontanato un secondo ma seguivo il dibattito c'ho il telefono sotto carica l'anno fatto no il mio intervento è brevissimo per sottolineare quanto poi in realtà esponeva anche ora l'assessore l'assessore metri allora un confronto è difficile parlo perché rispetto al passato indubbiamente c'erano anche sistemi di gestione completamente diversi oggi lavoriamo in un panorama dove la raccolta differenziata è oltre il 70% cioè spiora l'80% e dove c'è stato in questo tra l'altro frangente esattamente quell'investimento che ci serve ad abbandonare la vecchia modalità di gestione della raccolta rifiuti dove effettivamente il contributo diciamo così all'abbattimento della produzione dei rifiuti che finivano in discarica era poco significativo cioè noi avevamo imboccato una strada con tutte le difficoltà che vi sono note non ve le sto qui a ripilogare nella visione che dovevamo portare avanti rispetto a quella che invece il gestore ci propinava e che era quella che c'era stata fino a prima del nostro inserimento c'è un sistema nel quale i rifiuti si raccolgono poi lo smaltimento va direttamente in fattura e niente da niente da eccepire come poi è successo e abbiamo iniziato noi a essere quelli che controllavano effettivamente se il servizio veniva svolto oppure no quello che mi interessa in realtà sottolineare è che una strada intanto che abbiamo imboccato è quella che porta tutti ad avere come dicevo nel mio precedente intervento tutti ad avere un riscontro all'inizio di un riscontro sul costo del servizio con una diminuzione che è generalizzata per tutti i cittadini è un inizio che come dicevo combacia anche con un aumento dei servizi quindi vuol dire che stiamo invoccando la strada giusta dove a una diminuzione del costo complessivo si accosta invece un aumento qualitativo e quantitativo delle prestazioni che vengono offerte agli utenti ricordo semplicemente che comunque c'è ancora un pezzo di strada da fare importante per completare il circuito della raccolta differenziata che è rappresentato dai centri di raccolta che danno un ulteriore supporto alla raccolta differenziata e un ulteriore servizio alla cittadinanza che lo chiede un altro aspetto importante secondo me da sottolineare che proprio per quelle complessità che citava Andrea Favilla prima tutti quei coefficienti tutti quei calcoli tutte quelle sovrastrutture che oggi determinano in modo aziendalistico e matematico il quantitativo di una tariffa uno dei mi sento di rivendicarlo comunque come un'indicazione di successo politico uno degli elementi secondo me importanti di cui spesso non si parla è che nella determinazione della tariffa parallelamente il comune come dire mette da parte una grande una buona dose di risorse non dico grande per non essere presunto ma anche una buona dose di risorse con le quali facciamo pronte ai bisogni puntuali delle famiglie e delle imprese oggi delle imprese è riuscito perché c'è anche la situazione del covid e quella dei costi di sopravvivenza delle imprese è diventata una battaglia che tutti insieme stiamo cercando di combattere apposta per riuscire ad abbattere i costi fissi dell'azienda il covid ha fatto il suo riducendo i ricavi e la vita delle aziende noi cerchiamo di abbattere i costi di vita delle aziende non siamo lo Stato non abbiamo grandi possibilità di elargizione anche se ci siamo cimentati in quell'ambito con lo stanziamento di risorse per quelli che hanno perso fatturato però c'è appunto dicevo un aspetto importante di ulteriore abbattimento della tariffa che però è mirato sui bisogni sulle situazioni effettive quindi c'è una diminuzione generalizzata che avviene per tutte le attività e tutte le famiglie e a questo accostiamo una politica di fondi regolati con l'accesso dei requisiti di chi effettivamente ha bisogno o di chi presenta fatti specie di bisogno che non vuol dire necessariamente essere poveri perché ci sono le agevolazioni con cui si ottengono delle riduzioni parziali ci sono delle agevolazioni per esempio sulle famiglie e soprattutto che portano a delle vere e proprie esenzioni ecco anche di questo aspetto che è un aspetto che si accorta alla politica della gestione dei rifiuti e delle tariffe io credo che sia una buona soluzione per cercare di mitigare gli impatti di quella questione appunto dei calcoli aritmetici che la normativa di arera e di legge ci impone cioè se da un lato noi non siamo legislatori non abbiamo la possibilità di modificare noi dal consiglio comunale le leggi e le regole che in realtà l'ordinamento affida a un parlamento o a un'autorità come appunto quella di regolazione dei servizi pubblici dall'altro è vero che abbiamo delle soluzioni per mitigare un impatto negativo che deriverebbe da quel sistema e lo facciamo con che cosa? appunto con questi fondi dedicati in particolare a chi poi nella vita quotidiana ha più bisogno che il comune gli stia a fianco ha più bisogno di ricevere aiuti e si fa anche con un criterio consentitemi di dire e qui è una questione forse più di valore di politica con un criterio di giustizia sociale cioè si evita di fare delle politiche semplicemente di pioggia e si cerca invece di fare una politica selettiva di aiuti con questo per dire che quelle diminuzioni di cui parlava l'assessore Mecchi che riguardano tutti non è che sono una diminuzione a pioggia cioè una giusta diminuzione che remunera e premia la città che sta facendo la raccolta differenziata che sta producendo un risultato sullo sfondo di un quadro nel quale il valore fondamentale che tendiamo a tutelare con la raccolta differenziata non è semplicemente una questione economica c'è dietro una visione del rapporto tra le attività umane e l'ambiente la sfida a dire che non c'è bisogno di inceneritori per smaltire dei frutti non c'è nemmeno bisogno di discarichi per sotterrarli o non farli vedere quindi superare delle concezioni vecchie concezioni che tra l'altro consegnano le generazioni future tendenzialmente i sistemi dove è vero che magari si può anche pensare di fare prima smaltire qualcosa ma che nel lungo periodo consegnano un mondo più sporco un mondo più inquinato un mondo dove non si parte solo delle risorse prime che si traggono appunto dalla raccolta differenziata le sfide continuano perché in questo campo il lavoro da fare è costante e continuo lo dicevo prima cioè non è che c'è un punto di arrivo con questo con questo dibattito con questa pratica c'è un lavoro in divenire che va visto per l'appunto una prospettiva di medio periodo che però come dicevo il pregio di questa fase è di avere il primo riscontro che la strada imboccata è quella che dà i primi segnali del risultato che ci dovevamo attendere cioè nel momento in cui il servizio regime avere una prima inversione di tendenza c'è la possibilità di aumentare i servizi nel frattempo che c'è una diminuzione dei costi e questo rende imparagonabile permettetemi ma non è per una questione polemica rende imparagonabile col sistema di prima perché in un comune dove si faceva il 27% di rifiuti e si faceva solo raccolta su piassonetti stradali e c'erano degli inceneritori e si pagavano a fior di soldi le discariche senza domanpartico di tante domande è ovvio che il sistema è imparagonabile cioè qui oggi si parla di un altro sistema completamente che è destinato a produrre i suoi effetti in un medio periodo che è quello che abbiamo invocato dopodiché ovviamente il discredito del vecchio sistema la critica che si fa era esattamente sui valori ambientali di cui il vecchio sistema non si curava minimamente questo non riguarda solo Camaiore se vogliamo ha riguardato per un lungo periodo tutti i comuni italiani in una prospettiva generale nazionale che sulla raccolta differenziata non chiava parecchio anche regionale non chiava parecchio adesso la strada è tracciata in questo solco noi cerchiamo di fare ovviamente la nostra parte e potenziare i servizi e la raccolta differenziata diventa a questo punto la vera sfida perché più riusciamo ad essere come dire completi compiuti sotto il profilo dei servizi a raccolta differenziata più quell'effetto di abbattimento dei costi oltre che di salvaguarda dell'ambiente diventa ovviamente proporzionale forse anzi diventa esponenziale ovviamente non voglio nemmeno citare il fatto che comunque la raccolta è riferenziata anche il pregio di dare un dato occupazionale di carattere pubblico che tutela anche i lavoratori che nel tempo ci sono stati oltre che impiegare in maniera utile nuove forze di lavoro Presidente grazie sindaco bene allora passiamo alle dichiarazioni di voto ci sono consiglieri che chiedono la parola niente voto favorevole del gruppo misto bene Michele io ringrazio il sindaco della sua brevità perché aveva detto che faceva un intervento non solo qualche accenno e poi è durato di esattamente dieci minuti che doveva durare ma perché questo perché poi l'argomento e rientro anche un attimo nell'intervento di Menchetti l'argomento è diventato l'argomento la campagna elettorale ma siete talmente abituati a stare all'opposizione o comunque a fare l'opposizione in qualche maniera che non vi rendete conto che si parla di dieci anni fa cioè minimo voi siete andati a parlare di argomenti di dieci anni fa ma c'eravate anche cinque anni fa comunque io non lasciamo perdere tanto sono cose che queste cittadine non interessano la pratica è sulla tari sulle tariffe entriamo un attimo nelle tariffe intanto mi sembra che tutti questi toni ottimistici dell'assessore poi del sindaco poi ovviamente di tutta la maggioranza io mi auguro che siano poi oltre che ottimistici anche realistici non mi sembra dai conti che ho visto che possano essere molto realistici perché lo stesso sindaco nel suo discorso cade in contraddizione due o tre volte prima dice che la raccolta è generale le agevolazioni sono generalizzate poi dice no però non è che siano generalizzate non ho capito bene questo discorso però un discorso l'ho capito invece benissimo quando ha detto che e la cittadinanza lo vuole ha specificato parlando dei centri di raccolta su questa e la cittadinanza lo vuole non sarei tanto convinto alla luce anche degli ultimi avvenimenti poi avete tolto dei servizi poi comunque il presunto grande guadagno che faranno i cittadini è di circa se abbiamo fatto bene i conti un euro un euro a mese poi mi sono anche segnato una cosa perché nella sua enfasi da assessore evidentemente ripeto qui si deve si deve cominciare a fare campagna elettorale allora andiamo a cercare la preistoria cioè dieci anni fa perché con quello che è successo in questi dieci anni il passato è veramente diventato è veramente diventato preistoria bene comunque io invito l'assessore Mecchi con tutti gli errori e con tutti gli sbagli che avrebbe dovuto fare la precedente amministrazione se vogliamo tornare così indietro mi dica quanto pagava quanto pagava il cittadino nel 2009 la tariffa quanto erano le tariffe e quanto poi sono diventate ora se effettivamente c'è stato questo calo o questo questo calo che l'assessore continua a vantare e ovviamente tutto questo mio discorso è per arrivare poi a fare una dichiarazione contraria a questa a questa pratica però ecco un'ultima cosa la dico sia a Menchetti sia a Del Dotto e basta perché mi sembra che è anche a Favilla ma Favilla ha fatto per esempio un'osservazione giustissima che chiaramente l'assessore gli ha già risposto ebbene cioè lei signor Favilla si può attaccare perché le rosticcerie comunque non avranno avranno le agevolazioni come quei disgraziati dei ristoranti che invece non hanno mai aperto e non solo i ristoranti ma evidentemente non si poteva fare un distinguo in questo caso chissà poi perché e niente volevo solo dire appunto che sia a Menchetti che al Del Dotto che insomma tutti questi questi vantaggi che voi dite li vedremo li vedremo ma poi mi dovete trovare una una sola pratica una sola nostra obiezione un'interpellanza una mozione della Lega contro la scelta che avete fatto della raccolta differenziata me la dovete proprio trovare perché noi non critichiamo questo discorso in questo momento noi si sta parlando delle tariffe sulla raccolta differenziata noi si disse all'epoca all'epoca che poi non è così lontana non è dieci anni fa si disse vediamo vediamo io posso apprezzare tra l'altro la presa di posizione che ebbe il sindaco nei confronti di qualche amministratore o presunto amministratore di Viareggio per esempio a cui io mi troveranno sempre dalla parte del del dotto se combatterà quelle persone che ha combattuto e che ha cercato comunque di combattere a Viareggio e su questo lo metto agli atti però comunque noi non siamo mai stati contro la raccolta differenziata siamo stati dubpiosi sull'efficacia di una raccolta differenziata non perfettamente programmabile e programmata infatti poi ci sono state persone o comunque attività che ne hanno risentito a livello di costi e altri meno ma per la cittadinanza io sono per esempio mi sento di esprimere il parere favorevole della Lega per questo discorso della raccolta differenziata che poi grazie ci sono altri consiglieri che chiedono la parola io io sì prego 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 volevo esprimere il voto favorevole del partito democratico e mi volevo richiamare un po' a quello che ha accennato il consigliere Micheli sulla riduzione delle tariffe non è vero che queste riduzioni delle tariffe sono inesistenti o perlomeno poco consistenti perché mi sembra che ci sia ci siano dei dati che lo dimostrino tanto su alcune attività che chiaramente non hanno lavorato come cinema discoteche ce n'è una sul territorio comunque c'è la riduzione sarà del 100% poi una consistente riduzione di 70% sarà a favore di alberghi bar ristoranti cioè sono cose che che fanno non è che sia il 2% si parla di cifre di 70% poi 13% sulle attività balneari come diceva prima anche l'assessore quindi una media di sconti che si aggira sul 5% ci sarà per tutti utenze domestiche e non domestiche mi sembra che l'ottica sia quella di andare incontro ai cittadini che hanno avuto delle perdite in generale anche con un occhio di riguardo per tutti e poi non ultimo i vantaggi che porta la raccolta differenziata che adesso come adesso è estesa al 75% cioè non è una cifra da poco questo 75% che sfiora all'80% addirittura al 75% all'80% anzi su tutto il territorio è una sfida che si è posta questa amministrazione con la scelta che ha fatto è una sfida che sta dando dei risultati sia in campo diciamo per quanto riguarda la salvaguardia ambientale sia anche per i risultati economici che ci hanno diciamo premiato ed è per questo che possiamo che ha approvato il piano economico e andremo a beneficiare di un contributo che si aggirerà su circa un milione di cui almeno 500.000 sarà utilizzato quest'anno e andrà a beneficio come si è detto prima delle famiglie e delle attività con la riduzione delle tariffe quindi diciamo che i passaggi che si stanno facendo facendo sono in effetti corretti e salvaguardano l'economia e le famiglie del territorio grazie grazie consigliere Alessandro consigliere sì grazie presidente no solo per dire che queste pratiche in sequenza sono la ragione per cui ho fatto questa sera quell'intervento sul bilancio perché ovviamente non l'avevo precisato perché lo davo per scontato visto che ci sarebbe affrontato dopo perché quel discorso che facevo io sulla logica premiale ed evitare diciamo così le agevolazioni a pioggia erano proprio perché le facevo lo ho fatto stasera proprio perché ne avremmo avuto la riprova nella discussione ed effettivamente sono venute fuori queste cose no perché poi uno magari si chiede perché quell'attività sì quell'attività no e da qui insomma anche un po' per quel mio stupore per cui insomma le attività stagionali sono sempre premiate però poi vengono fuori delle inchieste in cui un tempo c'era anche delle forze politiche che insomma tutelavano chi dice che dichiara almeno insomma alla stampa di essere sfruttato nel rapporto diciamo così paga giornaliera ore di lavoro eccetera un tempo c'era chi si promette è cambiato il mondo quindi oggi giorno il giovane stagionale che si lamenta non fa più notizie però a parte questa che era una battuta però no effettivamente effettivamente ecco è proprio questo volevo dire solo questo quello che intendevo cioè bisogna lavorare bene su quelle agevolazioni e in un settore come quello delle tariffe del servizio di rifiuti solidi urbani si vede bene e quindi questo è un esempio ed è proprio qui che il passaggio sarà decisivo il passaggio dalla logica emergenziale a quella ordinaria perché chiaramente dopo bisogna mettere da parte tutta una serie di considerazioni che stiamo facendo ora e che abbiamo fatto lo scorso anno ultima cosa per quanto riguarda il punto di non ritorno io vi dico la verità in prospettiva magari che non vedremo neanche noi però con il futuro non penso che questo sia il vero punto di non ritorno perché secondo me arriveremo anche a passaggi ulteriori non so se noi lo vedremo nelle nostre vite ma perché insomma comunque qualcosa si potrebbe ancora migliorare e oltretutto mi pare che quando si discuteva del passaggio anche in questo consiglio qualcuno aveva raccontato di esperienze non so di Scandinavia comunque ci sono anche altre possibilità non è l'unica questa cioè non è che questa è l'unica strada per tenere insieme il rispetto dell'ambiente ovviamente io non sono un esperto del settore quindi non saprei dare una soluzione però non credo che sia l'unica strada questa e oltretutto anche come si fa questa potrebbe essere anche delle strade alternative e dopotutto insomma almeno per gli stagionati insomma per i turisti diciamo che hanno residenze per un certo periodo dell'anno magari da noi un po' meno ma insomma chi per esempio basta andare a Pisa e si vede bene che c'è la possibilità delle famose tra virgolette isolette ecologiche proprio dentro nel centro della città dove uno va lì inserisce la tessera eccetera quindi insomma ci sono tutta una serie di modi per combinare e tenere insieme tutte le cose che non è questa l'unica strada va benissimo perché va bene non ci si lamenta però ecco diciamo non è che non vuole che passasse il messaggio che cioè siamo in una sorta di scelta obbligata ecco insomma questa è una scelta che è stata decisa comunque c'ha il il benestare e diciamo il sostegno regionale è portata avanti a livello territoriale bene portata avanti piuttosto bene non ci si lamenta però ecco non è che è l'unica strada l'importante sicuramente in futuro è tenere insieme tutto e chiaramente le esigenze ambientali saranno sempre più importanti allo stesso tempo non bisogna che i sacrifici per i cittadini siano eccessivi quindi insomma secondo me in futuro si potrà ancora ancora ridurre il tra virgolette oneri per i per i cittadini proprio nella gestione del servizio comunque ecco l'importante diciamo questo discorso delle agevolazioni che appunto dovremo rivedere quando sarà passata la pandemia per bene perché oggi siamo legati a queste esigenze emergenziali grazie grazie allora faccio l'intervento io chiaramente il mio voto sarà favorevole a questa pratica perché finalmente si parla di di riduzioni è un aiuto concreto per tante attività che hanno avuto grossi grossi problemi economici l'anno passato e anche tuttora quest'anno hanno avuto degli incassi se non di mezzati quasi e quindi questo è un piccolo contributo è chiaro che quando si parla di cifre del 75% sono cifre già considerevoli sempre della parte variabile ma insomma inciderà alla fine un 30-40% o meno della riduzione della tariffa come costo 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 totale un'altra cosa e non so se era il consigliere Menchetti che l'aveva accennato non è la giunta è il consiglio comunale che stabilisce le tariffe cioè siamo noi che votiamo quindi non è merito della giunta è merito del consiglio comunale se poi saranno approvate queste tariffe siamo è il consiglio non è la giunta ecco noi intanto contiamo poco come il consiglio comunale ma quando contiamo almeno diciamo chiaramente che la scelta è stata fatta a scelta dalla parte del consiglio del consiglio comunale e niente quindi il mio voto sarà favorevole c'è qualcosina che io chiaramente avrei fatto meglio per esempio avrei magari ho sbagliato dovrei aver dovuto fare un emendamento anche prima della fine della discussione di ridurre il per quanto riguarda la ristricceria perché secondo me non è giusto che le ristriccerie che hanno che hanno lavorato nell'anno abbia una riduzione del 75% mentre altre attività che hanno lavorato meno hanno delle riduzioni più basse rispetto al 75% quindi magari avrei dovuto fare un emendamento però va bene così poi di fatto anch'io parlo senza dati di fatto però la sensazione le ristriccerie sono sempre straperte quindi presumo come in tutti i generi alimentari che erano gli unici che erano aperti che hanno lavorato in maniera migliore o meglio rispetto ad anni passati comunque il mio voto è favorevole alla dei dita ci sono altri che chiedono la parola ma non abbiamo più il consigliere si intervengo ne avrei fatto volentieri al di meno ma intervengo intanto per dire per ribadire quello che ho già detto prima anzi per afforzare che quello che costava nel 2013 era inferiore rispetto a quello attuale quindi gli ho mandato anche a Marco una foto per dimostrarglielo perché ho preso i dati ho preso i dati li ho raffrontati quindi cioè il sindaco dice non parliamo dieci anni fa è ragione il sindaco però l'ha tirato in balle l'assessore dieci anni fa che costava di più sbagliando perché costava meno e costava ancora meno prima poi mi dici dal 2003 al 2008 ho continuato a aumentare sì aumentare ma non l'ha mai aumentare come l'avete aumentare voi dal 2012 forse quest'anno siete tornati un pochettino indietro quest'anno anche grazie forse a tutti gli aiuti che lo Stato italiano ha dato a questa amministrazione anche la riduzione delle tariffe è fatta sulla base dei soldi che ha stanziato lo Stato che mi sembra che il Comune ci abbia messo poco perché quel poco che ci ha messo di verrà rimborsato quindi non è che ha distratto una spesa corrente destinandola di là la sua spesa corrente l'ha continuata a far crescere e in più ha utilizzato quanto gli veniva dato dallo Stato e per di più per me l'ho utilizzato anche male perché anche nella scelta delle agevolazioni del togliere di ridurre la parte variabile a questa a quella categoria io non lo condivido perché non condivido che agli eventi li avete ridotto solamente del 75% la tariffa perché sono stati quelli che non hanno mai riaperto hanno avuto le peggiori perdite che al cinema dice il cinema e il teatro il teatro è del comune il cinema se non le si fa le lezioni etari ce la vengono a richiedere con il contributo quindi era legittimo che si è fatta così ma non condivido al campeggio solamente il 13% al campeggio a chi fa attività camperistica gli avrei fatto molto di più di agevolazioni etari non gli avrei fatto solamente il 13% di sconto sulla parte variabile come ribadisco non avrei fatto quel misero 40% a negozi di abbigliamento di calzature che sono stati quelli più colpiti da questa pandemia quindi secondo me sono anche veramente tutte sbagliate non hanno neanche logica io non so che logica avete avuto nel dire a questo il 40% a questo il 13% a questo il 75% a questo il 100% per me non ha nemmeno logica si discute nella vecchia gestione la nuova gestione intanto precisiamo una cosa che SEA lo ha voluto la sinistra cioè la costituzione di SEA qui l'ha voluta la sinistra l'avete voluta voi perché all'epoca Ersu era di destra e mai con Ersu ora è cambiata un po' la storia e SEA è divenuta quanto di peggio ci possa essere per l'amor di Dio ne prendo atto eccetera però SEA l'avete voluta voi l'avete costruita voi e siete stati voi a far confluire il Comune Camaiore in SEA non noi voi quindi vi siete resi conto di aver sbagliato anche lì e siete tornati indietro ma ve ne ascurgite sempre con tanti anni di ritardo non in anticipo ecco perché non siete lungimirati ecco perché andate sempre in conto a rivedere decisioni sbagliate come quella che avevate fatto di togliere i 700 mila euro dal risanamento della riscarica di Bernadone che non avete mai fatto ce l'avete tolti vi ci ho attaccato in consiglio ve l'ho detto durante il consultivo e ora no le avete inserite quindi è chiaro le decisioni le prendete a giorni alterni ecco perché non mi convince questo sistema di riduzione delle tariffe ma non mi convince niente dico la verità noi siamo l'abbiamo sempre sostenuta la raccolta differenziata forse l'abbiamo sostenuta e forse l'avremmo fatta anche meglio se c'eravamo noi perché andate a parlare con quelli che abitano in collina in che condizioni si trovano anzi in questo caso visto che non si possono fare due passaggi a metà per il ritiro del multimateriale consiglio al sindaco se parla con esso gli dice di portarci un bidone del multimateriale più grosso visto che c'è un'attività che fa ristorazione che ce l'ha il doppio di quella che ce l'hanno gli abitanti che sono un pochettino di più della ristorazione quindi almeno il bidone era addoppiato o almeno non lo mettono fuori le persone quindi non lo condivido ragazzi centri di raccolta avete congelato quello del nido ma non avete ancora preso una decisione non si sa mai quale decisione prenderete va bene in definitiva il mio voto è contrario a questa frase grazie consigliere Erra io non avrei nessun altro che chiede la parola quindi dare la parola al segretario anche qui abbiamo una doppia votazione anche di mia sicurità prego iniziamo del dottor Alessandro favorevole favorevole Menchetti Jacopo favorevole favorevole Edonese Federico favorevole favorevole D'Alessandro Gloria favorevole favorevole Maggi Fabrizio favorevole favorevole D'Aleluca Graziano favorevole favorevole Benedetti Angelo favorevole favorevole Gemignani Patrizia favorevole favorevole Lemetti Eleonora favorevole favorevole Unardelli Marco favorevole favorevole Favilla Andrea Sissi Giacomini Alberto Contrario favorevole Erra Riccardo R Riccardo Contrario favorevole Andreini Mario Favorevole favorevole Micheli Riccardo Contrario favorevole Sono stati 15 votanti tassa rifiutitale approvazione modifiche illustri la pratica all'assessore Mecchi Sì questa è una pratica come l'aveva accennato prima anche il consigliere Erra è proprio è tanto è soltanto di adeguamento è propedeutica una novità che scatterà dal 1-1 2022 ma che ancora non abbiamo affrontato perché riteniamo si debba affrontare a livello comprensoriale ossia l'uscita dal servizio pubblico di alcune attività non domestiche che ne facciano richiesta però dicevo non può essere il singolo comune che regolamenta come uscire quali documentazioni controllare perché naturalmente dovrà essere visto che l'ambiente è il tema più importante dovrà essere certificato come viene smaltito il singolo rifiuti quindi in attesa che ci siano evoluzioni su questo che avverranno sicuramente a livello di diato perché il modo di trattare i rifiuti da parte di queste aziende dovrà essere comune e dovrà essere poi controllato dagli uffici spero a livello comprensoriale come dicevo abbiamo in questo momento variato soltanto la parte della legge che toglie i rifiuti assimilabili tutti i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani diventano rifiuti urbani quindi in questa parte del regolamento abbiamo di fatto cancellato e lasciato le stesse condizioni poi sicuramente ci rientreremo come ho detto in commissione entro prima di settembre ottobre ossia prima che inizi il 2022 dove andrà regolamentato per bene anche l'uscita eventuale su richiesta da parte di utenze non domestiche in questa fase dicevo andiamo a rivedere il regolamento sulla base della nuova legge che toglie appunto l'assimilazione ai rifiuti quindi proprio per questo se vedete le modifiche abbiamo tolto tutti gli articoli dove si parlava dei rifiuti assimilati e li abbiamo portati a rifiuti urbani quindi per il momento rimane tutto uguale abbiamo soltanto tolto questa differenza che la legge ha escluso poi ci torneremo sicuramente entro il mese di settembre ottobre per rivederlo adeguarlo come dicevo spero in modo univoco per tutto lato per definire anche come si uscirà dal servizio perché questo avrà conseguenze anche sul piano finanziario da tutti e due punti di vista non pagheranno più la quota variabile dovranno giustificare come viene smaltita ma ci sarà anche un minor conferimento di rifiuti quindi anche di smaltimento caleranno sia le entrate che le uscite però diciamo questo le rivedremo al momento togliamo i rifiuti assimilabili che diventano urbani tutte le modifiche sono in tal senso grazie assessore iniziamo la discussione c'è qualcuno che chiede la parola non c'è nessuno passiamo quindi alle repliche le repliche non ci sono perché quindi assessore nulla sindaco vuol dire qualcosa niente passiamo a dichiarazione di voto dichiarazione di voto qualcuno che chiede la parola ma in realtà sulla pratica nell'illimitato oggetto che riferiva l'assessore vecchio io non ho nulla da da sottolineare ma giustamente l'assessore ha messo domani avanti e l'ha messa rispetto a una situazione che potrebbe generarsi anche nel nostro comune che riguarda la facoltà obbligo di legge di cui ci limitiamo a ricepire gli effetti nel nostro regolamento pedatari ecco la possibilità che alcuni operatori alcune aziende alcuni operatori economici alcuni contribuenti perché sono anche contribuenti e persano la tariffa dei datari possano avvalersi altri sistemi di gestione e trattamento dei rifiuti diciamo di gestione del servizio dei rifiuti perché poi sul trattamento hanno hanno un altro tipo hanno altri controlli ovviamente hanno insomma un sistema ben codificato però ecco questo è un argomento che secondo me merita approfondimento lo ricordava già l'assessore perché è una fattistica che è una casistica che in un comune come il nostro potrebbe verificarsi e su cui merita essere precisi nel definire le modalità con cui chi esce dalla organizzazione del servizio così come pianificata su scala comunale lo fa a determinate condizioni che sono condizioni di qualità ambientale chiaramente ma sono anche condizioni insomma garantite al pari di un servizio come quello pubblico nella gestione dei rifiuti io credo che di questa prerogativa dobbiamo essere tutti custodi perché si tratta di un piano che non possiamo sottovalutare lo ricordava l'assessore sia sul piano ambientale sia sul piano economico è chiaro che questa è una misura che come dire non intercetta all'interesse dell'utenza domestica e delle piccole utenze interessa semmai quella dei grandi gruppi che sono contribuenti significativi per il comune e che come dire possono in qualche modo avere delle strutture parallele che si occupano della gestione del servizio dei rifiuti e di queste dobbiamo avere una certa garanzia tutto grazie consigliere 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 Michele allora prendo prego tutti di prendere nota di quello che sto per dire perché non succederà molto spesso il sono totalmente d'accordo con l'intervento del consigliere Menchetti e proprio perché sono d'accordo con l'intervento del consigliere Menchetti farò faccio una dichiarazione di astenzione della pratica perché di astenzione perché sono molto dubbioso cioè ho l'impressione che proprio per quello che diceva Jacopo ci possa essere un danno economico da parte dell'amministrazione e perché e anche lì lui l'ha detto chiaramente poi lui non si può astenere ma io sì però questi non parliamo di grossi gruppi ma comunque queste aziende già abbastanza grandi come possono essere le aziende alle bocchette insomma ce le abbiamo e se poi ci sarà questa possibilità di scelta non sarà che questa scelta va veramente a danneggiare non poco le casse dell'amministrazione ecco questa era era solo la mia la mia perplessità e la perplessità che mi porta a stenermi su questa pratica grazie consigliere erra consigliere pedonese ci penso io voto favorevole del gruppo misto consigliere si visto che qui si deve approvare un regolamento in questa fase io devo essere sincero avrei anche fatto qualche modifica regolamento stesso in che senso nel senso di visto se c'era degli errori precedenti lo chiamavano così di di non andare a tassare completamente tutto anche le aree di passaggio dove vengono prodotti questi rifiuti ma cominciare a discludere effettivamente quelle aree di passaggio o quelle aree qui dove si parla di accidentale produzione da parte dei rifiuti perché effettivamente che il senso diventa una patrimoniale per le aziende ora questi quindi avrei preferito se si fosse cominciato anche a rivedere il regolamento e rivedere un regolamento andando incontro alle aziende a chi produce rifiuti ma non farglielo pagare su una sull'intero stabilimento ma solamente dove effettivamente pensa ad una falegnameria il posto dove produce rifiuti invece qui diventa un problema perché qui si abbatte di una certa percentuale ma si considera l'intero l'intero deposito quindi avrei preferito che si fosse cominciato a pensare anche ad una riscrittura del regolamento andando in conto alle esigenze delle aziende come trovo sbagliato il fatto che se uno questa dichiarazione di avvalersi o meno del servizio pubblico non venga fatta entro il 31 gennaio ma venga fatta il 20 febbraio lui si trovi costretto a pagare l'intera tariffa per tutto l'anno io avrei detto di no la pagare magari per 3-4 mesi e poi se decide di cambiare cambia ecco io avrei pensato a riscrivere il regolamento in un'altra maniera certamente è per legge bisogna recepirlo un nuovo regolamento che non assimila più rifiuti o speciale e quindi i rifiuti speciali non sono più anche quelli non assimilati diventano rifiuti urbani e quindi è soggettati alla tariffa urbana non so poi le categorie chi ci guadagnerà chi ci perderà da questo da questo nuovo regime non lo so quindi si converrà a conferire o meno il rifiuto presso un gestore pubblico o un analogo gestore privato fatto sta che bisogna studiarlo bene perché se così fosse che confluissero tutte queste aziende a servizio privato tutto quel costo del servizio di smaltimento di spazzamento eccetera dopo dovrà sobarcare il cittadino l'utenza domestica quindi va rivisto un pochettino e va considerato il tutto io in questa pratica qui mi astengo anch'io grazie consigliere io non avrei nessun altro che mi chiede la parola quindi do la parola al segretario anche che abbiamo a doppia regolamento no sul regolamento abbiamo un'unica votazione prego segretario si Deglotto Alessandro favorevole Menchetti Jacopo favorevole Fidonese Federico favorevole D'Alessandro Gloria favorevole Maggi Fabrizio Maggi Fabrizio problemi almeno per me non ho sentito Maggi Fabrizio non so se tu non mi non si sente non si sente Fabrizio favorevole ora ok Dalle Luque Graziano favorevole Benedetti Angelo favorevole Gemigliani Patrizia favorevole Lemmetti Eleonora favorevole Lunardelli Marco favorevole Davide Andrea Sì sì Basta Iacomini Alberto Astenuto Era Riccardo Astenuto Andreini Mario A favorevole Michele Riccardo Astenuto 15 votanti 12 favorevoli e 3 Astenuti Bene quindi la pari che è passata con 12 voti a favore e 3 Astenuti Ora passiamo all'ultimo punto del giorno la mozione sul deputatore di Luca Maiore presentata dal consigliere comunale era Riccardo ed altri a questa mozione si sono aggiunte altre due mozioni quella presentata da consigliera del partito democratico Gloria D'Alessandro e quella presentata da me Ora vorrei sento anche il segretario come andare avanti sulla discussione perché l'articolo 29 predisce ciascun consiglia la facoltà di presentare nel corso della seduta altre mozioni sullo stesso argomento in discussione tali mozioni sono discusse e votate congiuntamente a quelle già scritte all'ordine del giorno quindi io credo di interpretarlo però mi aiuti anche lei segretario che ci sarà il consigliere era che è il presentatore insieme agli altri della prima mozione il primo che illustra la propria mozione poi verranno illustrate le altre due mozioni e poi ci sarà una discussione congiunta delle mozioni e in fondo ci saranno le votazioni sulle tre mozioni sì anche dall'articolo 31 del regolamento fa propendere per questa soluzione quindi siccome l'argomento è il medesimo ci può essere una sola discussione dopo l'illustrazione specifica di ognuna delle mozioni va bene? allora io partirei con l'illustrazione della prima mozione presentata al consigliere era prego la devo leggere io o la devi leggere te? la devo leggere io la devo leggere io no ora sono tre minuti considerato che io esco a Favilla buonanotte guardiamo che uscita la riunica maiore considerato che in via del termine la riunica maiore esiste un depuratore che nel corso degli anni ha visto crescere sempre di più il proprio dimensionamento anche per accogliere i liquidi provenienti da comuni limitrofi accrescendo così le problematiche relativa alla bagnazione e quella relativa all'emolazione dei giudatori e dei rumori contribuendo quindi al peggioramento della qualità della vita per chi risiede in quell'area preso atto che l'impianto è stato costruito negli anni 70 quasi certamente per andare in conto alle esigenze degli abitanti di quell'area considerando l'innovazione tecnologica che questi impianti hanno avuto nel corso del tempo che li ha portati a trasformare le acque nere in elementi riutilizzabili di fanghi in energia termica ed elettrica con grande vantaggio per la comunità locale preso atto che l'area si trova nella nostra frazione di Verasca fonte più male delle tali turistiche e per cui andrebbe maggiormente uterata e valorizzata e non considerata un luogo dove nascondere i rifiuti di ogni tipo il Consiglio Comunale impegna al Sindaco e alla Giunta a porre in essere immediatamente tutte le azioni necessarie per porre fine ai rumori e ai cattivi odori di completare gli allacci dell'abitazione a reti fognaria e di valutare la possibilità di delocalizzare il depuratore in altro luogo un previo e specifico studio di fattività da parte di aziende studi professionali competenti atti a valutare due punti, la fattività delle operazioni, i costi della stessa nonché ad individuare la possibilità di alternativa è firmata a consiglieri era Riccardo, Micheli Riccardo, Mancini Marcello e Bertra Giuseppe che illustra la pratica il primo firmatario che è Riccardo Erra comunque è Bertra Giampaolo, non Giuseppe Presidente appunto, appunto se la vuole illustrare Riccardo non va bene, va bene lo stesso io faccio solo presente che se noi ci alziamo e andiamo via non c'è più il numero legale ma guarda, hai ragione consigliere Micheli però è anche una pratica, giustamente è una pratica presentata da voi no ma infatti non ho detto che ci alziamo e andiamo via ho fatto presente non mi alzo e non vado via però per dire siccome ti veniamo criticato spesso su certe prese di posizione anche da D'Alessandro su nostre certe prese di posizione insomma su una pratica del genere che non ci sia la maggioranza mi sembra un pochino strano bene consigliere Erra per cortesia illustri la pratica infatti anch'io stavo per fare lo stesso intervento prendo atto che alla maggioranza del depuratore ripido di Camaiore non ne frega proprio niente perché hanno abbandonato quasi tutti il Consiglio Comunale quindi vuol dire che il tema tanto sentito dai cittadini videsi questa maggioranza di sinistra non interessa io illustro la pratica sì perché questa pratica mi fa piacere che vi siate allineati perché voi venite sempre dopo la banda come dico io quando vedete che noi presentiamo delle mozioni interrogazioni subito vi allineate e cercate di farle vostre modificando qualcosa votando la vostra facendo capire che è farina del vostro sacco ma purtroppo anche lì non c'eravate arrivati va detto questo e solo al seguito della nostra mozione anche voi avete provveduto a farne delle altre no niente niente da dire noi siamo per quello che abbiamo scritto nella mozione visto che questo depuratore è vecchio è un depuratore che non incontra più le esigenze anche di creare valore e dar rifiuto se non sia bene prendere in considerazione la sostituzione del depuratore stesso anche in funzione effettivamente del piano nazionale di ripresa e resilienza e magari pensare anche eventualmente attraverso uno studio il fatto di spostarlo anche perché se poi andate a considerare al Vido di Camaiore laggiù ci vanno 10.000 famiglie che non sono di Vido di Camaiore ma sono di un altro comune e quindi effettivamente sarebbe anche bene cercare di localizzarlo anche un pochettino magari in una zona meno urbanizzata urbanizzata in una zona industriale che ce ne sono c'è un'area delle bocchette insieme a quella di Massarosa secondo me i mitofi potremmo condividere uno stesso progetto che vada in conto alle esigenze poi potremmo così valorizzare un'area che in questa maniera è degradata perché se voi pensate che volevate farci il centro di raccolta il depuratore non avete intenzione di spostarlo ci sono le antenne della telefonia in quell'area più che di sviluppo della costa si parla di degrado della costa poi avete commissionato uno studio mi dite che lo studio che fine ha fatto perché ora siete a rifare delle mozioni l'avete guardato lo studio perché a me non ce l'avete presentato avete incaricato dei tecnici che vi hanno detto ora ho visto la mozione del PD di fare uno studio con Gaia ma quanti studi volete fare? ce l'avete nella testa nell'ottica di andare incontro alle esigenze dei cittadini del nostro territorio a valorizzare invece che di non valorizzare un rifiuto che potrebbe far ritornare soldi non ce l'avete andate sempre a rimorco studi contro studi che poi non porteranno a niente non prenderete una decisione e la rinvierete grazie consigliere Erra passiamo all'illustrazione della seconda mozione considerato che il depuratore situato in via del termine di Camaiola la società Gaia SPA ha presentato un progetto volta a migliorare l'efficienza degli impianti di depurazione preso 8.000 ragioni delle molteplici necessità di intervento sugli impianti di depurazione di tutto il territorio comunale si impone l'esigenza di scongiurare che in tali costi di investimenti ricadano sulle tariffe del servizio idrico già estremamente pesanti per le utenze domestiche e aziendali del nostro territorio si deve necessare un attento iter di valutazione tecnica del progetto presentato al fine di poter assicurare i più alti livelli di efficienza dell'impianto a beneficio della qualità delle acque e della bene azione di mitigazione e riduzione dell'impatto sull'equità della vita del quartiere le valutazioni degli interventi in progetto necessitano dell'opportuna condivisione con i portatori di interesse locale valutato che nel plano nazionale di ripresa e resilienza ci saranno importanti i soldi finanziari all'insterito a progetti mirati alla salvaguardia dell'ambiente per cui questa amministrazione ha già sollecitato Gaia accoglierne l'opportunità il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta ad aprire un tavolo di confronto tra i tecnici di Gaia e del comune del comitato al fine di svolgere una valutazione approfondita del progetto assicurarne la funzionalità rispetto agli obiettivi indicati in premessa comunicare l'esito in tagli approfondimenti del consiglio comunale a chiedere a Gaia l'esito delle insostenibili criticità rilevate di valutare la fattibilità tecnico-economica della delocalizzazione dei depuratori in una zona meno urbanizzata anche in relazione all'opportunità di finanziamenti legati al piano nazionale di riprese di resilienza illustra la pratica la consiglia da Gloria d'Alessandro a capogruppo del partito de Mociano sì comunque mi sento di dover dire al consiglio ora questo non c'entra con la mozione ma un secondo che come avete visto il consigliere Boccardo è uscito molto presto e mi ha appena detto che il suo padre ha avuto un malore quindi mi sembra ampiamente giustificato è all'ospedale va bene allora dunque se leggiamo attentamente quello che abbiamo scritto tra le prime considerazioni che facciamo abbiamo scritto noi che Gaia ha presentato un progetto per migliorare l'efficienza dell'impianto di depurazione e preso atto che c'è bisogno di questo miglioramento perché il depuratore dagli anni 70 che è lì e ci sono delle criticità che sono emerse e ampiamente denunciate dalla cittadinanza e del Lido noi però scriviamo anche che va bene che si facciano che si faccia l'efficientamento ma è bene anche che questo efficientamento non ricada sulle spade dei contribuenti e quindi non vengano aumentate per ragione di ciò le utenze domestiche e non domestiche che tra l'altro insomma sono già abbastanza sostanziose quindi questa è già un atto una presa una presa d'atto della mozione da noi presentata poi invitiamo anche a istituire un tavolo di confronto tra tecnici di Gaia del comune e del comitato perché i tecnici Gaia chiaramente li ha già incaricati in virtù del fatto devono valutare l'intervento il comitato se l'è ampiamente gestita da soli e quindi sono cose che riguardano loro e il comune ha i propri tecnici e quindi un confronto un tavolo di confronto con tutte le rappresentanze mi sembra che sia una cosa doverosa per arrivare ad una valutazione approfondita del progetto e assicurarne la funzionalità anche rispetto agli obiettivi che sono stati indicati in premessa quindi se la leggete con correttezza c'è la tutela dei cittadini sia per quanto riguarda l'impatto ambientale e la salute ma anche con una certa riguardo ai costi che potrebbero eventualmente potrebbero eventualmente andare sulle spalle dei cittadini quindi noi stiamo a chiedere di valutare a Gaia grazie ho finito vabbè comunque di riportare al consiglio comunale quello che viene valutato dal tavolo e da Gaia quindi è il consiglio comunale che sarà sovrano per decidere e fare le opportune valutazioni non ci aggiunge a consiglio comunale grazie allora passiamo alla terza mozione che l'ho presentata io la leggo considerando che in via del termine sta costruito un depuratore negli anni 70 anche dal 77 a oggi data della circolare del consiglio dei ministri che prescrive per questi impianti almeno 100 metri di distanza dall'abitazione attutata della salute pubblica questo depuratore non rispetta la distanza prescritta nella norma visto che nel 2012 questo impianto è noto per seguire la piccola terza di una parte di lide è stato notevolmente ampliato diventando intercomunale andando a ricevere i liquami il dismesso dei produttori di piang di conca a massa rosa quindi piang di conca piang di momio schiava località sassai il lavoro di ampliamento che potrebbero essere stati fatti ulteriormente in contrasto con la norma del 77 e questo impianto per la sua posizione da anni crea grossi problemi a tutta la zona ma anche vista l'importanza di migliorare la qualità delle acque e della balneazione su tutto il litorale considerando che anche il necessario compimento del processo di verifica in atto dei progetti di Gaia e rispetto del processo di partecipazione avviata con i cittadini coinvolti il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta ad iniziare i lavori previsti solo dopo aver concluso confrontato e valutato le relazioni dei tecnici incaricati sia quelli dei comuni quelli dei cittadini e se solo questa verifica darà etici positivi solo dopo aver trovato una soluzione definitiva al problema di questo depuratore sia essa delle localizzazioni in una zona consona o la riduzione dei flussi di liquami con massa rosa che riprende da una parte dei reflui ripristinando il bacino di utenza originale del depuratore i lavori proposti da Gaia possono essere autorizzati solo con una soluzione temporale di più veloce realizzazione a parte di aver trovato prima quella definitiva restano oltre il tempo focale il punto focale della fognatura se il depuratore è battito per il maggiore afflusso di acqua piovana infiltrata della fognatura nera è necessario intervenire sia sulle fognature che sia sul depuratore allora l'allustra velocemente l'intento è questo è semplice allora il depuratore di piano con la chiusura del depuratore di piano di momio si è creato un aumento e c'è poco da dire è stato ampliato il depuratore di Lido di Camaioli questo ampliamento si dice che non ci sarà che non era un ampliamento no c'è già stato nel 2012 un ampliamento e se si legge la cronaca locale se si dice che a Massarosa verranno fatte 10, 15, 20 km di fognature nuove è chiaro che parte di queste fognature andranno sul depuratore che prima non sarebbero andate perché non c'erano le fognature già questo è un altro ampliamento nascosto ma è un altro ampliamento poi l'altro punto fondamentale è questo lo dico ai partiti a tutti i partiti che sono a livello provinciale e a livello nazionale io vorrei avere una posizione ufficiale del partito democratico di Fratelli d'Italia della Lega e di Forza Italia a livello provinciale di come di cosa pensa su questa questione si deve riaprire il depuratore di piano di momio cosa dicono questi partiti qui si deve fare un depuratore in un'altra zona unico cosa dicono ma che lo prendono a livello provinciale non che una cosa si dice una cosa e magari a Mazzarosa ne viene detta un'altra perché così non è chiaro per i cittadini invece a livello provinciale visto che loro sono partiti provinciali e partiti nazionali dovrebbero prenderla e spero che ho nominato questi quattro partiti perché sono quelli presenti in consiglio comunali che sono a livello nazionale e a livello provinciale che prendono una posizione chiara chiara e quindi questo è il punto poi un'altra cosa mi si dice ragazzi ma io penso veramente che se è stata fatta la legge del 77 a tutela della gente significa che già nel 77 dove c'è la poca sensibilità per la tutela del cittadino e delle persone ma già nel 77 fu detto che la distanza minima doveva essere 100 metri un motivo ci sarà se fu detto nel 77 non nel 2018 nel 77 ed oggi che succede succede che che viene fatto questo ampliamento questi cittadini sono sempre lì e mi dico ma qualcuno dice ma ci stanno 3 o 4 gatti guardate che il concetto è uguale se ci sta la persona ce ne stanno 10.000 ma se bisogna mettere in salvezza e in salvaguardia quelle persone che ce ne stia uno ce ne stia 10 per me è uguale è chiaro che poi c'è il problema della balneazione è chiaro questo è un punto fondamentale è chiaro che io non dico che i lavori non devono essere fatti i lavori devono essere fatti velocemente ma deve essere fatto contemporaneamente una già presa una cosa ben chiara stabilire una zona chiara è chiaro che ci verranno 7-8 anni non dico che va fatto domani ma che però mi dica già che si deve già individuare una zona e da lì costruire o un depuratore nuovo oppure riaprire il depuratore di piani di mom e ognuno si prenda la propria parte la parte del lido rimarrà lì e la parte di piani di mom andrà dall'altra parte questa è una posizione secondo me chiarissima bene le pratiche sono state illustrate possiamo partire con la discussione possiamo intervenire dopo anche noi Andrea scusa certo ora c'è perché noi parliamo su tutte e tre le pratiche prego c'è qualcuno che chiede la parola se nessuno chiede la parola andiamo andiamo alla votazione consigliere R no penso beh allora chiedo la parola e che ti raccomo grazie presidente allora nelle tre mozioni che sono state presentate stasera si riconosce una volontà comune che è poco da fare no cioè nelle nelle nell'impegni che le mozioni stabiliscono si riconosce appunto questa volontà comune ma le premesse però sono diverse e soprattutto l'approccio al tema è diverso perché sia nella mozione di minoranza che si scorda da dove viene quel depuratore da dove vengono quelle sue criticità e poi oltretutto cioè ci viene fatto notare che siamo non siamo in numero completo in organico completo stasera ma quando presentate le mozioni però i vostri firmatari sarebbe bene che ci fossero a sostenerle le ragioni delle mozioni e che ci fossero tutti ma tralasciando questo aspetto se la mozione di minoranza non si ricorda da dove viene la criticità di quell'impianto e quindi quello che ricordava il presidente del consiglio cioè l'estensione della rete e dieci anni fa qualcuno quella decisione lì la prese consigliare perché quelli qua a Milici ci arrivano nella via del termine da dieci anni a questa parte prima della gestione di questa amministrazione amministrazione questa che ha visto arrivarsi un progetto da Gaia e ora ci vuole vedere fino in fondo in che modo valutando insieme a degli esperti addirittura esterni anche all'ente per individuare delle competenze specifiche a che punto stanno le cose e come stanno veramente questi progetti di efficientamento perché ci viene presentato come tale cioè un impianto esistente che a seguito di un intervento di progetto dovrebbe funzionare meglio se così non sarà non si va da nessuna parte non solo non solo nella nostra mozione si dice anche che comunque sarà il caso di valutarle una localizzazione alternativa tenuto conto e questo lo sappia tutto il consiglio comunale non se lo scordi che il tema della depurazione nel nostro territorio è un gran guaio tutto il nostro territorio non solo quello comunale ma in tutto l'ambito provinciale ha una serie di questioni aperte sul tema della depurazione che si riversano tutte direttamente in mare quando dobbiamo fare i divieti di mancazione lo sappiamo bene da dove viene quella roba lì da tutte le acque interne mal depurate per gli errori fatti da precedenti gestioni che preferivano più fare i lavori pubblici che si vedevano piuttosto quelli che andavano sotto terra questo non è colpa soltanto vostra di quando avete governato per carità di Dio gli addori vengono da lontano ora se ne paga il conto ma sappiate bene che sul territorio di Camaiore ci sono diversi depuratori anche sul territorio di Camaiore che stanno anche a 20 metri dalle finestre delle classe e a questa gente a quella che sta via del termine come a quella che sta da altre parti dobbiamo avere la forza di dire chiaramente che a tutti gli approfondimenti in caso li facciamo se serve li lo collegeremo anche ma non vendiamo fumo alla gente grazie vorrei proporre un emendamento di forma dopo consiglio del presidente un emendamento di forma sulla nostra mozione che c'è un inciso che non torna ma possiamo parlare dopo ma lo dica subito quella di emendamento almeno nella discussione all'ultimo punto c'è un inciso che si massolida una precedente formulazione ora non c'è la mantinazione ma quando la letta me la legge per favore ma sull'ultimo punto il consiglio comale impegna al sindaco e la giunta l'ultimo punto degli impegni posso dire io dillo prego consigliere d'alessandro allora penso che il concedere Menchetti si riferisca a quando viene detto a chiedere a Gaia all'esito di sostenibili criticità rilevate di valutare la fattibilità tecnica economica della delocalizzazione del depuratore in una zona meno urbanizzata anche in relazioni alle opportunità di finanziamento legate al piano nazionale di ripresa e resilienza vero consigliere io mi interisco a questo perché quell'inciso all'estero insostenibile di sostenibile propongo di muoverlo mantenendo il test della formulazione ma basta che la consigliere ad Alessandro che è la rappresentatrice dell'elemento l'accogli e lo togliamo si si l'accolgo l'accolgo va bene consigliere Michele io solo per tutto per avere un chiarimento dal dottor del dotto che non è il dottor del dotto sindaco ma il dottor del dotto funzionario perché non ho capito bene mi ero molto probabilmente assentato un attimo dobbiamo votare la mozione tutte e tre le mozioni ma ognuna singolarmente giusto? sì direi di sì è la discussione che viene fatta congiuntamente perché l'argomento è lo stesso appunto perché ho fatto questa domanda perché la mia posizione sarà diversa a seconda delle tre mozioni allora dico subito il perché intanto apprezzo la chiarezza ovviamente della nostra mozione che mi sembra una mozione chiara esplicita e ben indirizzata e così come lo è anche quella del consigliere del presidente favilla che di cui ho apprezzato la sincerità e anche la chiarezza e tra l'altro noi come Lega ci siamo impegnati a livello provinciale a fare un chiarimento definitivo su questa su questa questione sono perfettamente d'accordo che ognuno si tenga i propri liquami e che quindi Massarosa ovviamente si prende come sono d'accordo anche sul potenziamento sulle previsioni di potenziamento perché ora poi vedremo nel comune di Massarosa che potrebbe portare ancora un aggravio maggiore sui nostri depuratori soprattutto su quello in questione quindi la mia posizione sulle mozioni sulla mia ovviamente sulla nostra è ovviamente chiara così come esprimo già il mio favore sulla mozione del presidente Favilla non sono invece d'accordo ma per una questione proprio semplice con la mozione del PD perché perché ancora una volta è una via di mezzo poi è bella che mi dicevano a me di essere un democristiano cioè io quando sento parlare per favore parlate di tutto in politica è giusto parlare di tutto ma parlare perché quando si enuncia la famosa diciamo così frase tavolo di confronto quando è detta soprattutto dal PD vuol dire non si fa niente perché quando per favore non parliamo più di tavoli di confronto perché quando si mette su un tavolo di confronto nel migliore dei casi si va a 5-6 anni 10 anni chissà quando ecco la mozione del PD mi sembra una mozione molto attendistica e non chiara non chiara nelle sue indirizzi che invece sia noi che quella del consigliere Favilla mi sembra abbiamo dato per cui io già ora fin da ora proprio per le cose che ho espresso finora anche perché poi la dottoressa D'Alessandro dice il consiglio comunale deve decidere deve decidere è giusto portare tutto al consiglio comunale prima facciamo il consiglio comunale il consiglio comunale è vero che deve decidere ma che decida e invece con voi non decide mai niente perché quando si parla di questi tavoli o di questi tecnici o di presunti nuovi incarichi e vuol dire che non si decide nulla ormai ci sono passato anche in tempi in cui voi non governavate quindi così abbiamo dato un colpo al cerchio e alla fronte è vero anche la faccenda che il depuratore è già stato ampliato nel 2012 faccio faccio mestamente presente che io nel 2012 non facevo parte di nessuna amministrazione il tempo è passato perché si è bloccato si è bloccato al termine al termine al termine al termine rispettoso dei tempi chiudo il mio intervento si è bloccato il termine ok abbiamo qualche altro consigliere che chiede la parola se non abbiamo nessun altro consigliere possiamo mettere in votazione le tre pratiche allora do la parola al sindaco si scusi sindaco io come premessa di si dopo in realtà si è prenotato di pochissimo ma dopo se uno guarda l'elenco invece a me mi risulta prima era che sono io ma rendo ma rendo al presidente il presidente decide no c'è prima era sindaco Lardelli quindi prima era prego portiamo l'orologio a zero no allora devo essere sincero ho letto le mozioni tutte e due anche in maniera abbastanza precisa ora in questo momento qui perché prima non ce l'ho fatta trovo la mozione del presidente Favilla quella che è uguale alla nostra più o meno non so se l'ha scritta lui o se l'ha scritta il comitato onestamente trovo molte la trovo molto familiare al comitato comunque va bene questo però insomma se va in contro alle esigenze del comitato va benissimo perché poi il comitato è espressione della cittadinanza e noi siamo con il comitato anche noi perché ci abitano e va bene trovo demagogica lo ripeto come ha già fatto Micheli quella del PD tant'è che l'hanno scritta è modificata perché si sono resi conto che all'esito di insostenibili criticità era quasi impossibile approvare un eventuale spostamento del localizzazione del decoratore e quindi è stata corretta in fretta e furia per rimarcare questo secondo me però va bene al di là di questo dico che è un annosso è un annosso problema è un problema che non è più un problema del territorio di Camaioli e basta ma io vedo la comprensionalità di questo problema e vedendo la comprensionalità è bene che tutti i comuni se ne facciano carico e capiscano le esigenze di chi risiede in quell'area le esigenze del comune di Camaioli che vuole lo spostamento o mi auguro voglia lo spostamento di questo depuratore perché questo perché poi è dieci anni che ho mai governato Ninchetti dice che tutti hanno trascurato il problema della rete fognare sì ma l'avete trascurato anche voi perché è dieci anni che siete ad amministrare questo comune e non avete fatto niente avete iniziato dei progetti pilota subito abbandonati perché vai a vedere qualche anno fa i progetti pilota avete iniziato e li avete abbandonati sprecando dei soldi avete sprecato dei soldi con l'acido peracetico con l'ionizzatore con tanti sistemi che erano palliativi non vi siete mai messi con la testa a cassetto e pensate e pensate di risolvere il problema facendo allacciare le fognature bianche con le fognature bianche e quelle nere con quelle nere e facendo allacciare tutte le fognature al sistema fognare quindi il problema vi riguarda perché voi purtroppo rispetto a noi che siamo qui ora avete governato dieci anni che non è che dovete avere la scusa di dire che gli dieci anni prima non è stato fatto niente può darsi però anche voi non avete fatto niente ecco perché trovo la vostra mozione molto demagogica io anch'io effettivamente trovo la mozione anche del Favilla molto simile alla nostra e quindi anch'io non ho nessun problema a votare anche quella del Favilla grazie consigliere sindaco la preoccupazione ovviamente di chi poi deve gestire queste scelte è che il consiglio comunale in un'epoca estremamente sensibile che è quella di un fine mandato e per qualcuno anche di un inizio ormai aperto di campagna elettorale che non si giochi a chi la spara piuttosto io quello che dico è che in un quadro che è esattamente un po' più realistico no? tragica rappresentazione elettorale che faceva adesso il consigliere io invito a vedersi la percentuale di copertura delle reti fognarie sul nostro territorio comunale all'inizio di questo mandato che sfiorava un po' più del 75% del comune e questo è un cumulato degli ultimi 40 anni e guardarsi la copertura adesso delle reti fognarie in quella chiave che diceva il consigliere Menchetti in cui in realtà il problema della valleazione viene da lontano ma se si va a vedere le somme spese prima del nostro arrivo ci si rende conto di chi è che se ne occupava e chi è che non se ne occupava detto questo ovviamente la preoccupazione in questa fase qual è? intanto quella di dire che se si deve allacciare qualcuno ai depuratori intanto ci allacciamo le reti di Camaiore lo dico consolando Riccardo Micheli che perché nel frattempo che ovviamente è decaduta l'amministrazione di Massarosa che su questo argomento non ha fatto niente e non governiamo noi a Massarosa ovviamente anzi direi che Massarosa se poteva rifilarci tutte le fognature del comune senza un depuratore lo fa ecco l'ha fatto io quando ho scritto all'allora sindaco Coluccini per chiedere un incontro nel migliore dei casi non ho avuto risposta negli altri casi in cui intraprendevo l'argomento in qualche serie capitava ovviamente c'era il rinvio ad libitum quindi lo dico per chiarezza perché l'impegno dell'amministrazione in realtà su questi capitoli c'è ed è anche molto ben tangibile chiudo il mio intervento dicendo che cosa c'è da fare un ragionamento io capisco che il consigliere Micheli come dire abbia voglia di slogan anche presi tutti dalla campagna elettorale c'è bisogno di dire sì o no bisogna nero o bianco in realtà c'è un approfondimento tecnico da fare c'è la baliazione non è un argomento su cui ci si improvvisa soprattutto dopo anni di lavoro su questi temi e anche su anni di lavoro che ci aspettano sul tema del piano nazionale sul PNRR che stanzia risorse anche su questi capitoli niente vieta che si possano fare valutazioni sulle delocalizzazioni però dobbiamo guardarci in faccia nel frattempo bisogna che la merda non vada in mare questo è il punto e che gli odori non infestino dei quartieri e che i rumori non diano pastille ai cittadini quindi con un tavolo tecnico che coordineremo con loro e lo dico qui perché lo faremo e con i tecnici che hanno disegnato quelli del comitato indubbiamente cercheremo soluzioni e ci prenderemo il tempo che serve a trovare una buona soluzione per tutti perché questo poi è la fatica della politica vuol dire questo grazie sindaco consigliere Nardelli grazie presidente allora a scansio di equivo ci dico subito che per far contenti tutti mi asterrò su tutte e tre così faccio contenti tutti allora credo che la mozione diciamo così dei consiglieri di opposizione sicuramente abbia il merito di avere incentrato un punto di interesse perché altrimenti non si spiega perché si siano poi addensate altre contromozioni quindi sicuramente a loro va questo merito la mozione del consigliere Favilla è interessante soprattutto per come l'ha spiegata perché ha fatto un ragionamento di portata più ampia che non sia solo quella del territorio comunale dove invece lui di solito circoscrive i suoi interventi quindi caro presidente finalmente anche lei prende atto che su alcuni temi bisogna ragionare a livello quantomeno comprensoriale e anche il PD comunque da questo punto di vista cioè quella del PD è chiaramente una mozione un po' più diciamo così un po' più riflessiva possiamo dire così perché prende atto della necessità di approfondimenti però è anche vero che dire tavolo di confronto vuol dire buttare la palla in calcio d'angolo questa è innegabile quindi per fare contenti tutti io mi sterrò su tutte e tre e credo che quello che manca sia effettivamente il ragionamento ma non manca perché non siete stati bravi a scriverlo manca proprio a livello politico il ragionamento se è capito che quell'area lì è considerata strategica se è capito perché se no non si capisce perché quell'area lì è considerata strategica allora se è veramente l'area migliore secondo me serve un ragionamento di tipo versiliese se invece ci sono delle aree ancora migliori di quella è la stessa cosa che alla fine abbiamo detto per il centro di raccolta erzo cioè se è quello lì il posto migliore in assoluto allora si fa un ragionamento di tipo versiliese affermi un attimo se prendiamo anche il territorio di Massarosa sì e in cambio qual è il beneficio va bene si può anche fare un ragionamento così altrimenti no ovviamente non ci si può andare rimessa se invece ci sono altri posti migliori allora però è chiaro che è giusto che se c'è un altro posto migliore bisogna attivarsi il prima possibile ed evitare che gli abitanti di quella zona lì via del termine e zone circostanti debbano subire diciamo così tutti i disagi che abbiamo che sono stati elencati quindi secondo me manca questo è difficile sicuramente è difficile però serve questo questo livello comprensoriale comprensoriale versiliese che sia centrale grazie grazie consigliere non abbiamo nessun altro mi sembra quindi votiamo le mozioni votiamo le mozioni sono più giovane di erra sono più giovane di erra segretario del dot come possiamo fare la votazione possiamo dire per esempio di votare tutti e tre insieme la prima è la mozione diciamo erra e gli altri consiglieri la seconda la mozione cento mi è permesso un chiarimento se il nostro zitto certo prego michele era solo ora tanto si sa benissimo come andrà la cosa quindi non si presenterà il problema ma per un futuro mettiamo che vengano approvate le due mozioni quella del centro-destra e quella della della lista della sinistra quella la sinistra-sinistra intendo e dopo come come si potrebbe come si dovrebbe comportare dopo un'amministrazione perché ora le due mozioni si assomigliano molto e quindi vabbè ma altrimenti se ci fossero stati delle cose un pochino diverse voglio vedere come ripeto stasera non si proporrà perché poi chiaramente il PD farà in maniera che questo non accada ovviamente però era solo una mia perplessità vedremo cosa succede prego iniziamo con la prima mozione quella presentata già all'ordine del giorno originario da consigliere Erra e da altri iniziamo con il voto espresso dal dottor Alessandro no ma no quindi facciamo scusi segretario quindi facciamo votiamo ogni mozione no io pensavo che le facciamo separate le votazioni io pensavo di votarle una alla volta mi sono comunque distinto va bene va bene ok allora iniziando da quella che ho appena appena fatto scelto sentiamo il voto del dottor Alessandro contrario contrario Menchetti Jacopo contrario Petonese Federico contrario D'Alessandro Gloria contraria Magi Fabrizio contrario D'Alelupe Graziano contrario Gemignani Patrizia contraria Lemetti Eleonora contraria Lunardelli Marco astenuto Davide Andrea favorevole Jacomini Alberto favorevole Riccardo super favorevole e Micheli Riccardo favorevole i votanti sono stati 13 sono stati riportati quattro voti favorevoli otto contrari e un astenuto per la prima mozione quindi la prima mozione l'abbiamo cesta bocciata sì passiamo alla seconda mozione quella presentata dal PD del dottor Alessandro favorevole Benchetti Jacopo favorevole Pedonese Federico favorevole d'Alessandro Gloria favorevole Maggi Fabrizio favorevole Dalleluca Graziano favorevole Gemignani Patrizia favorevole Lemetti Eleonora favorevole Lunardelli Marco astenuto Favilla Andrea astenuto Jacomini Alberto contrario era Riccardo contrario e Michele Riccardo contrario gli stessi tre disconsigliari votanti hanno espresso otto voti favorevoli tre contrari e due astenzioni quindi la mozione è passata con otto voti a favore ed eccoci alla terza mozione presentata dal Presidente del Consiglio del Dotto Alessandro astenuto Benchetti Jacopo astenuto Pedonese Federico astenuto D'Alessandro D'Alessandro Gloria astenuto Maggi Fabrizio astenuto D'Alessandro D'Alessandro Graziano astenuto Gemignani Patrizia astenuto Lemmetti Eleonora astenuta Lunardelli Marco astenuto Favilla Andrea favorevole Jacopo Alberto favorevole Erra Riccardo favorevole e Michele Riccardo favorevole 13 votanti 4 favorevoli e 9 astenuti e quindi la mozione è passata ora praticamente se la mozione è passata che fate un tavolo di confronto con Mitra ce la vediamo in casa nostra Riccardo la scritta andate a fare campagna elettorale vai bene grazie che la state facendo voi che non avete neanche la responsabilità di portare la posizione di far vita ci inconteremo al prossimo consiglio ci incontreremo al prossimo consiglio comunale in presenza io vi ho conosciuto come vi dico grazie grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti